Buonasera, consiglieri, sindaco, i cittadini presenti in aula e chi ci ascolta sulle frequenze di Centro Mare Radio. Marcucci Gianfranco, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Pagliotta Crescenzo, Pansini Lorena, Paparella Fabio, Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta Pierpaolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo e Trani Eugenio. La seduta è valida, possiamo procedere con i punti all'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo l'istituzione della provincia Porta d'Italia, relazione al sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Vorrei iniziare la seduta con un fuori programma, ma penso che sia un atto assolutamente dovuto da parte della città, dell'amministrazione comunale. e mi riferisco al qui presente Avvocato Mario Paggi, che oggi conclude la sua carriera lavorativa nel Comune di Radispoli, ha raggiunto l'età pensionabile e quindi oggi sarà forse un segno del destino che l'ultimo giorno di servizio sia qui con noi in funzione di Segretario Generale per questa seduta di Consiglio Comunale. Quindi a nome della città, dell'amministrazione comunale e a titolo personale ovviamente voglio ringraziarlo per il lavoro che ha svolto per oltre 30 anni in questi uffici. Io ho avuto il piacere di lavorare con lui in questi sette anni in cui ho avuto l'onore di essere sindaco della città di Radispoli e in lui ho sempre trovato un collaboratore presente, attento, disponibile e che ci ha sicuramente aiutato a risolvere tante situazioni difficili e complicate. Quindi grazie Mario per il lavoro che hai fatto in questi anni e grazie per esserti anche messo a disposizione per poter continuare in veste diversa, diciamo così, ad essere di supporto all'amministrazione comunale. Quindi mi sembrava un atto doveroso e che sicuramente il Consiglio Comunale condivide questa volta all'unanimità. Grazie. Se vuoi dirci qualcosa Mario, anche due sole parole, non ama le luci della ribalta. Allora, se c'è il Consigliere Pagliotta. Prego, Consigliere Pagliotta. Sì, grazie, un saluto a tutti e un saluto a Mario Paggi, considerato che lo abbiamo conosciuto tutti in tanti momenti, ma io come sindaco per tanti anni ho potuto contare sulla sua capacità, sulla sua affidabilità e sul suo attaccamento alle istituzioni. Penso che con questo si può dire tutto. Grazie, Consigliere Pagliotta. Prego. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Io volevo fare un saluto a Mario perché abbiamo lavorato insieme come responsabile quando poi ero assessore in questo comune, quindi ci siamo arrabbiati, abbiamo riso, abbiamo scherzato e abbiamo comunque portato avanti dei progetti molto interessanti, quindi volevo ringraziarti. Inoltre, anche come amico, perché poi io e Mario abbiamo condiviso insieme ai nostri figli che hanno la stessa età anche un percorso calcistico, quindi voglio dire ci conosciamo ormai da tantissimo tempo. Grazie Mario per il lavoro che hai svolto. Grazie, Consigliere Cialantini. Sindaco. Prego. C'è la Corsiera per voi. Grazie, buonasera a tutti. Anch'io volevo unirmi insomma ai ringraziamenti al nostro Avvocato. Io volevo dare la sua capacità come collega, la sua capacità di approfondire gli argomenti in maniera minuziosa ma senza per questo lasciarsi, come dire, invagrire dalla voglia di essere per forza, come dire, dalla parte della ragione. Io ho apprezzato la sua capacità di essere caparbio ma allo stesso tempo disponibile ed siamo riusciti insieme a lui, come ha detto il Sindaco, a risolvere tante e tante situazioni molto complicate. Quindi grazie e grazie dell'aiuto che so che tu continuerai a dare a tutti noi. Insomma, grazie Mario. Grazie, Consigliere Perretta. Prego, Sindaco, non ci sono altri interventi. Sì, allora, il primo punto che discutiamo oggi è un punto molto molto importante che è una portata epocale per la nostra città, per il nostro territorio, per i comuni interessati da questo progetto. L'istituzione di una nuova provincia è sicuramente un atto straordinario che non capita spesso all'interno dei comuni e se capita capita una volta durante la loro esistenza probabilmente. E' un progetto di cui abbiamo già parlato, ovviamente in commissione. Abbiamo organizzato un incontro aperto per incontrare anche i cittadini e poter dare eventualmente delle risposte, delle spiegazioni, per dare approfondimenti. In quell'occasione era intervenuto anche il professore Enrico Michetti che è colui che ha supportato i sindaci e le amministrazioni in questo percorso redigendo gli atti, la relazione accompagnatoria che è stata fornita ai consiglieri per farsi un'idea della portata di questa iniziativa. E' un'iniziativa che ha un peso politico importante perché, come dicevo, può determinare una svolta epocale per i nostri territori. I comuni interessati da questo progetto sono nove e sono, vi leggo da sud a nord, Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Tarquinia e Monte Romano. Ho detto da sud verso nord e non elenco prima il capoluogo di provincia perché il concetto base da cui si parte in questo progetto è anch'esso innovativo, ovvero non partire dal presupposto di avere un comune dominante come è giustamente nel nostro caso la capitale o in altri casi le città più grandi, più numerose a livello di popolazione ma avere dei comuni che sono con alcune differenze sicuramente a livello di estensione e di popolazione residente però che hanno pari dignità rispetto agli altri e questa è l'impostazione principale secondo me è quella da cui poi si parte per declinare tutto il resto. Faccio un cenno innanzitutto sull'aspetto procedurale così chiariamo anche questo e poi magari alcune considerazioni e poi lascerò ovviamente che sia il Consiglio Comunale ad esprimersi. L'iniziativa deve partire dai comuni e quindi i comuni interessati da questo perimetro devono esprimersi attraverso i consigli comunali a maggioranza dei consiglieri assegnati quindi essendo noi 24 con il Sindaco 25 almeno 13 consiglieri comunali devono votare favorevolmente questa proposta altrimenti non si può considerare come una proposta approvata questo è un primo tassello. Può succedere? Ancora non lo sappiamo perché nel frattempo alcuni comuni si sono già espressi favorevolmente come Civitavecchia, Piumicino, Santa Marinella può succedere che qualcuno dei comuni in questione potrebbe non esprimere il voto favorevole o non esprimersi in una determinata tempistica in quel caso se i comuni che si sono espressi favorevolmente raggiungono a livello di rappresentanza di cittadini almeno 200.000 abitanti il progetto andrà comunque avanti. Poi se per esempio faccio così una casistica prendendo un comune a caso il comune di Monte Romano che è un comune esterno al perimetro non dovesse deliberare o dovesse deliberare in maniera contraria allora quel comune potrebbe essere anche diciamo così estromesso tagliato fuori in quanto appunto esterno al perimetro se dovesse succedere per esempio per il comune di Cerveteri che collega naturalmente Piumicino al resto della provincia alla Dispoli insomma alla parte rimanente in quel caso il comune di Cerveteri non potrebbe essere estromesso senza conseguenze perché taglierebbe fuori anche il comune di Piumicino e quindi gioco forza Cerveteri nel caso in cui sarebbe comunque compresa in questo progetto questo è importante perché non è un dato secondario quindi una volta fatti questi passaggi nei consigli comunali che come vedete via via stanno deliberando la nuova provincia dovrà essere istituita con una legge dello Stato quindi poi la parola passerà al Parlamento che dovrà richiedere un parere alla Regione Lazio parere che comunque non è vincolante diciamo che poi il Parlamento si esprimerà soprattutto su una verifica degli atti su una verifica dell'omogeneità dei territori su una verifica che l'aspetto procedurale sia stato rispettato e quindi poi da lì a poi ci sarà un percorso che porterà alla nomina di un commissario che gestirà la fase transitoria che gestirà anche l'acquisizione al patrimonio dei beni dell'attuale città metropolitana di Roma Capitale che insomma farà tutte le attività propeteutiche per arrivare poi all'elezione degli organi provinciali sia essa fatta mediante l'attuale sistema con l'elezione di secondo livello oppure direttamente se ci sarà nel frattempo una riforma da parte del Governo centrale quindi questo è diciamo così l'aspetto procedurale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione era stato in questi mesi anche di dibattito pubblico anche di articoli sulla stampa messo in discussione l'aspetto procedurale sulla base di di una norma che però era stata dichiarata incostituzionale quindi abbiamo anche spiegato in Commissione che non bisognava tenerla in considerazione quindi chiarito questa parte dell'aspetto procedurale io credo che poi la cosa più importante in questa aula oggi sia entrare un po' più nel dettaglio per far capire soprattutto ai cittadini quali possono essere i vantaggi di una così importante iniziativa iniziamo col dire che questo progetto non è un guanto di sfida alla capitale non è una decisione animata da un senso di rivalza anche perché credo che qualunque città al mondo non avrebbe una buona sorte se dovesse mai sfidare su qualsiasi piano la capitale d'Italia che è Roma e questo ovviamente lo sappiamo tutti la decisione scaturisce semplicemente dalla volontà dei territori compresi in questa nuova provincia di potersi autodeterminare di poter incidere sulle scelte in maniera diretta di poter gestire le risorse che la nuova provincia avrà a disposizione unicamente su questo territorio di poter gestire al meglio i vari ambiti che le province e le città metropolitane gestiscono attualmente che sappiamo essere ovviamente la gestione per esempio degli istituti superiori se parliamo di pubblica istruzione parliamo di competenze in materia ambientale parliamo di competenze anche in materia di servizio idrico perché comunque sappiamo che la nostra provincia è un confine politico gestito da Acea quindi una nuova provincia porterà con sé numerosi presidi territoriali che verranno poi dislocati anche in base alla disponibilità immobiliare dei vari enti su tutto il territorio non sarà tutto concentrato in un unico comune ci sarà appunto un'accoglienza diffusa per citare un po' l'aspetto alberghiero della vicenda quindi dicevo tutte le competenze delle province della provincia di città metropolitana dovranno transitare alla nuova provincia anche presumiamo visto insomma il progetto ormai avviato a livello statale di autonomia differenziata che darà alle province ulteriori competenze e che inevitabilmente verranno in parte anche poi riversate sulle province sulle città metropolitane questo già avviene per alcune materie e quindi sicuramente le province avranno un peso specifico maggiore ma immaginate quale potrebbe essere il peso specifico di questa provincia che avrebbe al suo interno l'infrastruttura portuale più importante del Mediterraneo e quella aeroportuale più importante d'Europa il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino sono le porte d'ingresso principali al nostro paese per questo insomma il nome richiama questo aspetto qui e questo ci metterebbe ovviamente anche il resto dei comuni che hanno altre peculiarità che hanno altre caratteristiche hanno altre ricchezze penso a Cerveteri per quanto riguarda e Tarquinia per quanto riguarda il patrimonio storico archeologico anche noi possiamo dire la nostra per non parlare della ricchezza e della capacità delle nostre aziende agricole quindi tutto ciò che riguarda il comparto enocastronomico la vocazione turistica che abbiamo in questi territori soprattutto tutte caratteristiche che ci accomunano che accomunano i nuovi comuni e che fanno di questo territorio un territorio omogeneo a percentuali elevatissime siamo oltre il 97-98% e l'omogeneità dei territori è uno dei requisiti fondamentali per poter appunto istituire una nuova provincia quindi dicevo è una iniziativa che mira ad avere maggiore rappresentatività facciamo il caso di Radispoli noi all'interno della città metropolitana sebbene abbiamo formalmente un consigliere comunale eletto in questo territorio che è il consigliere Pascucci adesso non voglio entrare nel merito di quello che fa Pascucci in città metropolitana anche se ne abbiamo parlato in diverse occasioni siamo assolutamente carenti di rappresentatività in questa assise dove inevitabilmente le risorse vengono catalizzate dalla città più importante che è la capitale e è anche giusto che sia così quindi l'impostazione sta proprio qua non avere una città dominante ma una serie di comuni che hanno pari dignità e che hanno che possono beneficiare delle risorse che possono prendere decisioni mirate sulla base dei propri territori e non su magari iniziative anche in materia ambientale di difesa del suolo che devono contemplare esigenze di territori completamente diversi dai nostri quindi questo ci dovrebbe la possibilità di essere più puntuali più efficaci di migliorare i servizi e di essere maggiormente rappresentativi sul nostro territorio quindi io credo che sia sicuramente un atto di grande coraggio questo è inevitabilmente così però credo che sia tra l'altro una scelta al contrario di quello che qualcuno afferma anche attuale cioè al passo con i tempi nel momento in cui si parla di autonomia dei territori e appunto questo territorio grida appunto a gran voce che vuole avere più potere decisionale più capacità appunto di influenzare positivamente le sorti di questi comuni quindi dicevo è sicuramente un atto di grande coraggio che io in qualche modo vorrei equiparare anche alla scelta seppur totalmente diversa e fatta in tempi assolutamente diversi del nostro comune tanti anni fa di separarsi dal comune di Cerveteri beh quella scelta magari anche all'epoca qualcuno poteva ritenerla azzardata o comunque non di sicuro successo beh a distanza di 50 anni e oltre possiamo dire che è stata una scelta assolutamente giusta che ha portato solo benefici a questo territorio ripeto sono cose diverse parliamo di tempi e di procedure e di contesti totalmente diversi però potrebbe essere preso come esempio virtuoso per appunto capire che quando un territorio è nella capacità di potersi autodeterminare autogestire e di essere più a contatto con i cittadini probabilmente i risultati non possono che essere positivi quindi diciamo questo è a larghi su larghe vedute il progetto in questione non abbiamo già discusso ciascuno già ha avuto modo di farsi un'idea sulla questione e quindi non starò qui ad allungare il mio intervento perché è più importante che si esprimano i consiglieri comunali un'altra cosa che volevo dire perché è già stato affrontato questo passaggio sia nelle diverse riunioni che abbiamo fatto con i sindaci dei comuni interessati sia in questo contesto di commissione consigliare che nell'incontro pubblico la procedura non prevede non contempla il passaggio della consultazione popolare consultazione referendaria che non è obbligatorio ma non è neanche obbligatorio non farlo non è neanche precluso però nell'ambito delle riunioni che abbiamo avuto con gli altri sindaci e gli altri rappresentanti delle amministrazioni comunali abbiamo deciso di avere una linea unitaria anche perché sarebbe stato anche difficilmente comprensibile se alla Dispo li avessimo fatto in un modo e a Civitavecchia avessero fatto in un altro se dobbiamo andare in una direzione è bene che ci andiamo tutti allo stesso modo e quindi abbiamo convenuto di non passare per una consultazione referendaria che sarebbe stata sicuramente una complicazione dal punto di vista burocratico perché bisogna costituire dei seggi elettorali come delle vere e proprie elezioni sarebbe stato ovviamente anche un aggravio di costi e comunque abbiamo poi convenuto che su determinate scelte bisogna anche assumersi la responsabilità e noi ci riteniamo assolutamente nella condizione di assumerci questa responsabilità nei confronti dei cittadini dei quali siamo rappresentanti per determinare questo cambiamento che secondo noi secondo la maggior parte dei sindaci che si sono espressi fino ad ora ad esclusione del comune di Cerveteri che non ha ancora diciamo così pubblicamente parlo del sindaco chiarito la posizione saranno in una fase di riflessione ancora quindi sono tutti dichiarati favorevoli e quindi man mano stanno andando avanti con le deliberazioni di consiglio comunale quindi questo è il deliberato di oggi se ci sono domande siamo qui anche per rispondere grazie grazie sindaco iniziamo con gli interventi si è prenotato il consigliere Paparella sì grazie buonasera presidente grazie della parola buonasera a tutti coloro che ci seguono sia in presenza che da casa io in realtà vorrei fare preliminarmente una domanda diciamo di natura tecnica procedurale e ho letto con attenzione la delibera nella quale nella parte diciamo delle premesse c'è scritto che viene valutata dalla relazione redatta dal professor avvocato Enrico Michetti in ordine agli aspetti di carattere giuridico tecnico ed economico finanziario come di seguito declinata nel dato atto che ora questa relazione noi in realtà non l'abbiamo acquisita nella sua integralità diciamo così a meno che sindaco lei non abbia mandato una PEC o una mail o qualcuno il presidente o qualcuno abbia mandato qualcosa perché sul drive messo a disposizione per il consiglio odierno da articolo 64 dovevano essere depositati gli atti entro un giorno dall'avviso di convocazione e non c'è nessun'altra relazione al di fuori diciamo della delibera quindi gli elementi che vengono citati in delibera questa è la prima è la prima nota procedurale la seconda è questa appunto nella delibera si fa riferimento a un professionista in particolare che avrebbe fornito diciamo così la consulenza di carattere giuridico tecnico ed economico su cui si fonda tutta questa operazione che è un'operazione epocale il comune di Radispoli ha in qualche modo incaricato questo professionista c'è quindi una determina di impegno c'è stato un contratto c'è qualcosa altrimenti a che titolo diciamo così figura questo professionista all'interno della delibera che andiamo a trattare oggi questo a prescindere da qualsiasi considerazione di natura sostanziale sulla quale poi insomma ci soffermeremo grazie consigliere Paparella sindaco il professor Michetti non ha ricevuto compensi e non ha avuto diciamo incarichi ufficiali da parte di nessuno dei comuni interessati da questo progetto a meno che questo risulta tra l'altro noi nella delibera come vedete nella parte finale del deliberato non andiamo ad approvare la relazione che è stata fatta dal professor Michetti che comunque vi è stata mandata dal presidente del consiglio e quindi ce l'avete tutti in ogni caso in questa delibera è solamente citata è citata una parte di quella relazione che è stata uno strumento che è stato messo a disposizione dei sindaci e quindi in un passaggio del deliberato diciamo delle premesse si fa una copia e colla di una parte di questa relazione che può essere utile per valutare favorevolmente quelli che sono i vantaggi ma nel deliberato noi non andiamo a provare una relazione che deve essere allegata è solamente un passaggio della delibera che aiuta la comprensione a capire quali sono le competenze della provincia e i possibili vantaggi quindi da questo punto di vista non ci sono per quanto mi riguarda non c'è alcun tipo di irregolarità visto che non è un atto allegato non è un allegato parte sostanziale ma viene semplicemente fatta un cenno comportando alcuni passi di una relazione che tra l'altro insomma era di decine e decine di pagine grazie sindaco prego consigliere paparella sì grazie presidente purtroppo devo diciamo così smentire quello che ha detto il sindaco perché non tutti anzi che io sappia nessun consigliere ha ricevuto la relazione qualcuno mi dice che forse è girata su un gruppo whatsapp però sui canali diciamo così ufficiali non è girato nulla non è pervenuto nulla e diciamo così la cosa che io allora invito a a modificare della delibera è l'espressione valutata alla relazione redatta dal professor avvocato Enrico Michetti poiché se noi scriviamo questo significa che il consiglio comunale che approva questa delibera ha valutato la relazione se i consiglieri comunali non hanno ricevuto la relazione non possono di certo averla valutata quindi l'espressione valutata alla relazione non può essere inserita in delibera per quanto ci riguarda poiché la relazione ripeto è sicuramente circolata su canali informali oltretutto senza un protocollo e senza una firma di nessun tipo quindi potrebbe essere un atto qualsiasi anche manipolato per quanto ci riguarda ma attraverso i canali ufficiali e i consiglieri comunali non è stata fornita in alcun modo quindi visto che non è stata fornita e sulla delibera c'è scritto valutata se io volessi votare a favore voterei a favore di una delibera che dice che io ho potuto valutare questa relazione relazione la quale invece non ho avuto modo di leggere e non mi è stata comunicata per i canali ufficiali grazie consigliere paparella consigliere ciarlantini sì grazie presidente buonasera a chi ci ascolta sia da casa che da questo consiglio comunale diciamo che le perplessità che sono emerse da questa diciamo operazione epocale come giustamente anche sottolineato il sindaco sono molteplici noi ci siamo messi a disposizione nel senso per capire i pro e i contro come civici di un'operazione così importante per i nostri territori e onestamente dalle poche diciamo purtroppo quindi non è arrivata il vatemecum di Michetti perché poi queste cose non possono essere messe su un diciamo una chat di whatsapp che tra l'altro è una chat dei capigruppo queste sono cose ufficiali andrebbero mandate via PEC non sono arrivate è stata fatta una commissione è stato fatto un incontro con Michetti per cercare di capire da che parte dobbiamo andare ora leggendo la delibera ci sono tantissime cose che letta così in maniera anche abbastanza superficiale tutti diciamo evviva ci danno l'ospedale il policlinico evviva ci danno l'università la prefettura la questura ora insomma io vorrei un attimino riflettere su determinate cose perché in delibera non c'è nessuna norma citata che dice che in realtà i comuni costituendosi provincia autonoma avranno sulla base dell'articolo numero del tu eccetera eccetera avranno il policlinico a disposizione in un'area destinata a avranno a disposizione l'ateneo quindi voglio dire noi non siamo soddisfatti del fatto che poi ci sembra un libro dei sogni perché non ci sono delle leggi specifiche che ci consentono di poter fare una valutazione sana questa è la prima cosa e quindi è la prima domanda che io pongo al sindaco se ci cita gentilmente le leggi che in futuro ci permetteranno di avere il policlinico l'ateneo la prefettura la questura e tutte queste cose qua questa è la prima domanda dove realmente siamo rimasti un pochino così perché ci sembra come al solito che tante cose tipo lista della spesa molto importanti ma che non sono poi determinate da una una norma una legge onestamente mi sembra quasi che sia una operazione prettamente politica e non una un'operazione che possa giovare per le nostre comunità questo era una mia perplessità insomma visto e considerato che siamo disposti a ragionare ma credo che non ci siano stati né le varie di commissione non se ne può fare una soltanto per una cosa del genere come dicevo prima il vade mai come non è arrivato ci sono delle cose che mi lasciano particolarmente perplessa tipo quando si parla di ehm ministero della pubblica istruzione quando si parla di di scuole il provveditorato quindi che poi verrà sul territorio per costruire per per far sì che ci siano altre scuole mi sembra quasi follia quando parliamo del policlinico che poi ben sappiamo che gli ospedali sono una gestione prettamente della regione quindi sicuramente ci sarà da fare altri altri lavori in questo senso quindi non è così semplice però ecco se il sindaco chi per lui mi mi dà le leggi che comunque ci consentono nero su bianco che e costituendoci in una nuova provincia noi avremmo eh sulla base di queste normative noi avremmo queste cose si può ragionare detto questo poi mi mi pongo anche un altro problema che non è da poco secondo me no? questa provincia autonoma di cui tanto parliamo perché noi vogliamo farlo anche per i nostri ragazzi che vanno all'università a Roma invece potrebbero andare all'università a Civitavecchia mo dico una cosa o all'università a Fiumicino beh io onestamente essendo madre di figli che frequentano la scuola a Roma e che frequentano l'università a Roma dico che è molto più semplice visto i treni la frequenza dei treni che abbiamo per farli andare a Roma uno ogni 15 minuti è molto più semplice piuttosto che i trasporti poi che ci condurranno a Fiumicino che ci condurranno a Civitavecchia o ancora più in alto quindi voglio dire ci sono delle cose che vanno verificate ora se noi vogliamo fare un ragionamento essenzialmente per renderci autonomi pensando che l'area metropolitana ci stia togliendo qualcosa o non ci stia dando quello che noi meritiamo credo che questa sia un altro tipo di valutazione ma va fatta secondo me sempre con delle carte che possano dare ai cittadini la possibilità di verificare poi ricordo questo fatto del referendum che onestamente mi stupisce che tutti questi sindaci abbiano detto no al referendum questa è un'altra cosa che mi crea un pochino di disagio perché io credo che un'operazione così vada assolutamente condivisa con i cittadini quindi il referendum non è che era previsto il referendum andava fatto proprio per una questione di trasparenza e una questione di lealtà nei confronti delle nostre città quindi io questa cosa mi lascia un pochino perplessa beh se però neanche ai consiglieri comunali permettete di avere i documenti in mano in tempo per discutere capisco bene che non volevate coinvolgere i cittadini per non avere problemi appunto con i cittadini questo però mi crea molto disagio perché poi non è un problema soltanto del comune di Radispoli mi sembra di capire che nessuno dei comuni che sono andati in aula si sono voluti confrontare con la propria città quindi con i propri concittadini con quelli che li hanno votati e comunque che li hanno messi lì a rappresentarli questa credo che sia un'altra cosa grave nei confronti appunto della nostra città quindi ecco vorrei queste risposte appunto chiare per poter poi fare una valutazione che credo che non si possa fare oggi così improvvisamente io credo che questo è un tema talmente importante che l'amministrazione comunale dovrebbe dare la possibilità a noi consiglieri di fare una valutazione un pochino più ampia e sì fare altri incontri con i cittadini se non volete fare il referendum e mettetevi in piazza e parlate di questa cosa perché io credo che questa sia una cosa che possa compromettere vuoi dire nel bene io qualche dubbio ancora ce l'ho i nostri territori e finisco dicendo anche un'altra cosa Sindaco lei ha parlato di diciamo di avere delle cose insieme perché comunque siamo comuni che hanno dal punto di vista culturale dal punto di vista agricolo dal punto di vista di molte cose abbiamo tante cose in comune ora io vorrei ricordare agli amici qualcuno c'era qualcuno no era stato costituito un consorzio con questi comuni di cui le parla parlo di civile vecchia parlo di Santa Marinella parlo di di Cervetri avevamo fatto abbiamo costituito l'Etturia Meridionale e un consorzio di comuni per poter proprio valorizzare il nostro territorio e questa cosa ha funzionato finché poi abbiamo amministrato questo territorio quindi esiste la possibilità di costituirsi in consorzio per fare delle cose insieme per poter valorizzare i nostri territori quindi credo che questa corsa alla nuova provincia fermo restando che stiamo andando proprio contro il fatto che le province stanno chiudendo noi ne vogliamo fare un'altra stiamo andando proprio un po' controcorrente però ecco ripeto le perplessità che mi che mi sorgono sono queste che non abbiamo poi delle normative precise delle leggi scritte che ti dicono che in realtà tutto ciò di cui voi parlate nella delibera è una cosa che ci spetterà di diritto a noi ai nostri colleghi dei comuni limitrofi per il momento grazie grazie consigliere Cialantini consigliere Perretta Presidente solo per un piccolo apporto se possibile poi magari attendo per il mio intervento ma mi riferivo soprattutto alla dichiarazione precedente alla giusta osservazione del consigliere Paparella per poter dare una mia lettura mi pare che in quest'ambito sia stata dichiarata esplicitamente la parte che della della relazione veniva come dire indicata tanto è vero che la la dicitura dice esattamente questo valutata dalla relazione tecnica economica finanziaria come di seguito di arminata del dato atto che per chi affronta la lettura con un minimo di competenza anche della normativa di riferimento perché non corrisponde davvero che non sono indicate le leggi le leggi sono quelle che sono diciamo come dire indicate in delibera poi ci sono dei percorsi aggiuntivi come indicati dal sindaco le azioni che vengono indicate successivamente a seguito dal dato atto che altro non sono che gli elementi diciamo presupposti per dar corso a questa discernina prevista dall'articolo 133 infatti qua si indica la territorialità la capacità insomma di scambi commerciali culturali ed economici il territorio diciamo continuo quindi quelle sono le come dire le basi affinché si possa percorrere il percorso tracciato dall'articolo diciamo 21 del Tuel per cui poi semmai si leggerà successivamente perché l'articolo del Tuel dice esattamente questo dice quali sono le caratteristiche alla base del quale devono non esiste per poter procedere in questa direzione che poi insomma vengono accompagnati dall'articolo 133 della Costituzione quindi non c'è una relazione che è stata omessa non c'è un documento che non viene considerato anzi viene indicata esattamente da parte di questa relazione che dà come presupposto diciamo prefistato quello che è la base il fondamento scientifico logico giuridico del perché si può andare ad attivare questo percorso le modalità come ha detto anche il sindaco peraltro verranno poi successivamente coordinate anche da un passaggio parlamentare perché questo tipo di iniziativa avrà una sua prosecuzione una sua definizione in termini diciamo così parlamentari questo solo per dare un contributo per quanto possa essere utile naturalmente poi mi riservo ovviamente Presidente il mio intervento a seguire grazie grazie consigliere Perretta ovviamente a supporto di quanto lei ha dichiarato voglio ricordare a tutti i consiglieri che il 27 febbraio è stato messo a conoscenza tramite la chat di Capigruppo l'intera relazione il 5 marzo è stato presente qui in aula il dottor Michetti che ha relazionato insomma sulla nuova provincia e il 19 aprile se non erro c'è stata la commissione affari istituzionali prego consigliere Perretta se vuole fare anche l'intervento così poi passiamo la parola al sindaco dopo le risponderà anche il sindaco prego consigliere Perretta Sì Presidente io volevo proprio iniziare anche per per chiarezza per chi ci ascolta proprio sulla diciamo normativa che è posta alla base di questa iniziativa e in particolare l'articolo 21 del testo unico del TUEL che indica appunto le basi logico giuridiche e sociali sulle quali si può muovere per poter procedere verso un'iniziativa come questa mi piace leggere i primi due punti perché forse sono quelli che in qualche modo dovrebbero diciamo a mio giudizio diciamo avere il maturo interesse dell'aula perché io ho sentito finora e forse anche ragionevolmente perché io non voglio mettermi come elemento critico rispetto a quanto è diciamo è stato considerato come necessario conoscere però il punto fondamentale forse in questa sede non è tanto se c'è un iter diciamo legislativo corretto se magari c'è un referendum da fare o se ci sono circostanze per le quali per legge ci spetta qualcosa piuttosto che altro il punto è capire se noi siamo d'accordo sul fatto che qui abbiamo alcune problematiche e alcune diciamo caratteristiche sociali economiche e culturali che in qualche modo ci individuano come una porzione territoriale che necessita necessita di una attività forse come dire dislocata da quella che finora ha avuto origine in ambiti diversi questo è un punto fondamentale che non può essere secondo me risolto esclusivamente partendo da un presupposto critico e anche se vogliamo troppo leguleio parliamo invece della sostanza perché magari si può essere d'accordo o non d'accordo ma sul merito non su questioni che in qualche modo tendono a spostare l'argomento in termini oltransistici qui parliamo di cose serie secondo me perché questo è effettivamente una data storica è effettivamente un momento su cui tutti dovremmo riflettere io ricordo magari chi ha capelli bianchi come me insomma se lo ricorderà forse di più ma sono sono decenni che si prova a ragionare in termini di provincia diversificata da quella attuale prima Civitalecchia poi Viterbo ci sono state tantissime esperienze che in qualche modo hanno portato a provare questo tipo di strada evidentemente è una situazione che i territori sentono perché non può essere solamente politica se da decenni si parla di una questione che evidentemente in qualche modo ha raccolto tante adesioni poi ci si è riusciti non ci si è riusciti si è tentato anche come ricordava prima qualche consigliere in altre modalità per trovare sinergie per trovare strade ma l'esigenza di diversificare la nostra cultura la nostra realtà la nostra economia da quella della capitale è sempre stata presente in un modo o nell'altro e questo non è reato riconoscere non è un peccato veniale è una considerazione seria di quello che nel tempo è successo e quindi se così è stato se così abbiamo diciamo storicamente avuto la prova che si è avvenuta evidentemente c'è qualcosa che dobbiamo porci come punto di riferimento per capire se è necessario intervenire con un'altra forma di programmazione e ripeto da questo punto di vista mi piace leggere appunto l'articolo 21 perché dice che per i criteri insomma che servono Altracomo stabilisce appunto che i criteri gli indirizzi cui i comuni devono attenersi nell'esercizio dell'iniziativa ovvero che a ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali economici e culturali della popolazione residente e questo è un fatto che non possiamo liquidare dicendo sì però ce lo fanno all'ospedale sì però ce lo fanno all'Ateneo allora il sindaco ci deve dire che qua ci vuole all'Ateneo altrimenti se non c'è una legge che ci dice qua parliamo di una cosa diversa c'è una realtà residente storica culturale che ha delle vicinanze con il territorio che oggi si racchiude in questo modo o no abbiamo una diversità da proporre rispetto a quello che effettivamente avviene nell'altro ambito territoriale o no se c'è questo ragioniamo su questo se c'è questa necessità di andare a capire come poi si andrà a come dire organizzare un conto ma se l'esigenza la troviamo vera esistente allora ragioniamo insieme su questo non ragioniamo sul fatto che magari non c'è scritta una legge non c'è un referendum perché noi siamo anche qua per avere una responsabilità questa per chi non lo sapesse ma immagino che tutti lo sappiano è una democrazia rappresentativa guarda un po' ci compete l'obbligo di avere una responsabilità ci compete l'obbligo di assumere responsabilità riguardo anche a un indirizzo e questo è un fatto che secondo me va sentito perché abbiamo fatto anche diciamo noi siamo stati come dire testimoni di altri referendum qui alla Dispoli mi pare che poi se noi facciamo il referendum per non sentirli probabilmente forse è meglio quello che non li facciamo e rispondiamo noi stessi dai nostri responsabilità dei nostri atti quindi c'è una realtà storica culturale sociale che ha queste caratteristiche e che ha questo tipo di somiglianza secondo me sì e poi continua come altro elemento c'è un territorio provinciale deve avere dimensioni tale per ampiezza entità demografica nonché per attività produttive esistenti o possibili da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico sociale e culturale del territorio provinciale e regionale allora questa è un'altra caratteristica che mi pare meriti un approfondimento serio esiste un polo che possa autodeterminarsi per favorire un riequilibrio del territorio rispetto a queste attività economiche e sociali io ritengo così questi sono gli argomenti che secondo me vanno affrontati vanno affrontati con senso di responsabilità che è esattamente il modo in cui questa maggioranza responsabilmente sta affrontando questa scelta che è epocale che graverà evidentemente su chi avrà le spalle per reggerla e spero che sia una responsabilità e che ci siano spalle diciamo capienti che provengano non solo da questi banchi perché quasi fa la storia del nostro territorio ma provengono anche dai banchi dell'opposizione grazie Presidente che ho terminato grazie Consigliere Perretta Consigliere Marongiu Silvia prego dopo le risponderà il Sindaco prego Consigliere Mollica grazie Presidente buonasera a tutti i presenti a chi ci ascolta da casa Sindaco io prima scusi Presidente prima di entrare nel dettaglio perché vorrei sentire alcune risposte che dà il Sindaco perché entrerà nel dettaglio vorrei insistere anche perché vedo che ci sono anche esponenti di chi è promotore di questa iniziativa che volevo ricordarle che il 5 marzo non era un Consiglio Comunale aperto e quindi un incontro istituzionale ma era semplicemente un incontro pubblico dove nessun atto è stato a noi dato ma come a noi a noi c'è neanche a voi insomma e la chat whatsapp a lei è vero che l'ha data però fino a prova contraria non è un canale ufficiale quindi una pecca non ci è arrivata a meno che lei non l'abbia mandato oggi questo non l'ho visto non lo so però mi sembrava corretto a meno che non venga modificata la delibera perché su questo vorremmo sentire anche il sindaco che risponde al Consigliere Paparella perché sulla delibera in seconda pagina c'è scritta a carattere i cubitali che la reazione è stata da noi valutata ma da noi non è stata nessuno ce l'ha inviata solo questo per canali ufficiali prima di entrare nel dettaglio della delibera che preferisco ascoltare il sindaco che risponde a alcune domande grazie grazie prego sindaco pensavo di aver già risposto al consigliere Paparella ma lo faccio nuovamente ribadisco che noi non stiamo approvando nessuna relazione la relazione è citata in un passaggio e viene proprio scritto valutata la relazione del professor Michetti in ordine agli aspetti di carattere giuditico declinata nel dato atto che dopo c'è scritto dato atto che e viene fatto copia e colla del passaggio della relazione quindi la relazione che voi dite è qui è nelle premesse uno potrebbe anche leggere quella relazione e pensare che sia piena di fandonie e comunque ritenere che questo sia un progetto valido quindi se voi oggi pensate di portare la discussione su un discorso di cavilli burocratici io speravo che oggi si riuscisse a volare un po' più alti in una direzione o nell'altra favorevoli o contrari però se pensate di poter trascinare la discussione sulle secondo noi la relazione secondo noi questo secondo noi quell'altro siete liberi di farlo però io non posso ogni 5 minuti rispondere alla stessa domanda alla quale ho già dato risposta 5 minuti prima non approviamo nessuna relazione è fatto un cenno di quella relazione e è fatto il copia e incolla di quel passaggio del quale si dà atto e c'è scritto dato atto che questo è quindi capisco che questa cosa può non soddisfarvi vedremo vedremo quello che succederà a livello numerico se il consiglio approverà o no dopo di che avrete 60 giorni per impugnare altare 120 alla presidenza della Repubblica questo prevede la normativa quindi questo non posso fare io la stessa delibera è stata votata in tutti i comuni e sarà votata lo stesso testo in tutti i comuni stesso testo indovinate l'unico consiglio comunale che ha fatto un problema di cavilli grazie grazie sindaco consigliere Molica così conclude l'intervento sindaco noi io sono qua presente per prendermi le mie responsabilità e votarla questa delibera però non può negare l'evidenza c'è scritto valutata è italiano non è che c'è bisogno di interpretare poi se non erro e qui abbiamo gli esponenti del cuore di Fiumicino e possiamo anche chiederlo in cui la delibera è stata già votata dove questa c'è l'azione è stata messa agli atti ed è stata consegnata ai consiglieri comunali forse è il capoluogo sicuramente votarsi non lo so solo questo sindaco cioè io sto qua e la voto la delibera non è quello però è giusto precisare che le cose vanno fatte bene perché bastava andare in APEC solo questo posso presidente però delle due l'una o la relazione voi non l'avete mai vista né sentita e oggi ne prendete così all'improvviso atto che esiste oppure come dice lei nonostante non sia un atto che fa parte integrante sostanziale della delibera lei comunque l'ha vista perché ha detto che l'ha ricevuta quindi noi non approviamo nessuna relazione questo progetto poteva tranquillamente essere portato avanti senza alcun tipo di relazione a sostegno quello era uno strumento che è stato richiesto dai sindaci una relazione che poteva tranquillamente rimanere all'interno di quegli incontri che poi noi abbiamo esteso per le vie brevi ai consiglieri comunali per poter avere un quadro un po' più approfondito di quelle che sono magari le competenze le possibilità un'eventuale ipotesi di bilancio di una provincia di questo genere era uno strumento più che abbiamo messo a disposizione che ci è stato gentilmente redatto senza alcun compenso al professor Michetti ma noi oggi non stiamo qui a dire che siccome Michetti ha detto di sì nella sua relazione che conviene allora noi votiamo perché ripeto io posso pure leggere quella relazione e pensare che sia piena di cose assurde e comunque posso essere convinto che la nuova provincia fatta in questo modo possa essere un vantaggio per noi quindi non vi ancorate a quella delibera se siete contrari votate contrari e motivate la vostra scelta e avete pienamente diritto e per certi versi vi dico che lo capisco pure perché si tratta di un atto importante coraggioso e che comunque necessita anche insomma di una certa dose di coraggio noi stiamo dicendo che questo progetto secondo noi è un progetto valido lo hanno già detto prima di noi delle città importanti del nostro comprensorio e quindi ci assumiamo la responsabilità di portarlo avanti però ripeto non è una critica però non ridurrei la discussione su un argomento così importante a banali aspetti procedurali che tra l'altro neanche esistono perché noi votiamo un progetto votiamo votiamo una impostazione diversa della gestione del nostro territorio quindi i cavilli li eviterei ma più che altro perché ripeto in questo Consiglio Equalare devono emergere se possibile anche le voci contrarie per far riflettere chi magari oggi è convinto perché magari lei oggi fa un intervento che evidentemente mette a nudo i problemi le criticità potenziali di questa nuova provincia e magari ha ragione lei e magari noi ci ravvediamo se però i vostri interventi sono solamente eh però qui c'è scritto la relazione del professor Miglietti dove sta la relazione a noi ce l'avete data solo su Whatsapp lasciatemi dire che queste non sono motivazioni queste sono si chiama cavillare quindi avete sicuramente i vostri argomenti vedo che lei insomma ha pagina di scritto davanti quindi magari poi ci dirà politicamente quello che pensa ditelo e poi vediamo quello che voterà il consiglio ma dal punto di vista procedurale per quanto mi riguarda non c'è niente di illegittimo perché noi non votiamo e non approviamo niente noi approviamo solo e lo vedete nel deliberato tre punti ovvero di approvare per le motivazioni espresse l'istituzione della nuova provincia comprendente i comuni di Fiumicino e tutti gli altri proponendo sin d'ora eventuali d'erroche laddove si rendessero necessari in materia di personale di inviare la presente deliberazione ai sovralencati comuni interessati dell'iniziativa per poter procedere all'accertamento circa il raggiungimento delle adesioni ex legge previste anche in ordine alla consistenza demografica e di conferire ogni più ampio mandato al sindaco di procedere con le azioni necessarie all'avvio della positiva conclusione del leader legislativo non c'è scritto da nessuna parte si approva la delibera del professor Michetti viene fatto un cenno nelle premesse e viene fatto il copia e incolla quindi reclamate le mancanze in qualcosa che in realtà c'è pure e che non è parte integrata e sostanziale poi ripeto non voglio convincervi per forza se questo non vi soddisfa gli strumenti poi per fare azioni successive ci sono grazie sindaco consigliere Carau subito mi ha dato subito la parola grazie buonasera a tutti ai presenti a chi ci ascolta da casa noi abbiamo da subito affrontato questa questione in modo curioso nel senso che come poi dovrebbe fare in modo laico qualsiasi consigliere comunale qualsiasi rappresentante quindi abbiamo partecipato a quell'incontro unico incontro fatto in quest'aula con pochissima gente e poca partecipazione quindi senza nessun pregiudizio sindaco il problema è che poi passando il tempo siamo anche intervenuti come ricorderà in quel convegno passando il tempo ci siamo accorti però della poca come dire poca motivazione che c'era nell'atto e nella proposizione di questa istituzione della nuova provincia si citano dei vantaggi è stato detto dai colleghi che mi hanno anticipato di alcuni vantaggi ma insomma soltanto scritti non ci sono certezze non ci sono certezze visto che si legge i due capi insomma importanti dove regge questa costituzione e l'articolo 133 della costituzione io capisco che con la costituzione avete qualche problema però insomma sarebbe stato bene scriverlo tutto l'articolo 133 dove dice appunto oltre quello che avete scritto voi c'è un pezzettino che non avete scritto la regione sentite le popolazioni interessate può con sue leggi istituire nel proprio territorio i nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni quindi credo però non serve la legge in questo caso la costituzione serve il buon senso se noi mi rivolgo ai consiglieri e colleghi di maggioranza se noi pensiamo di avere come dire l'onnipotenza come qualcuno pensa di avere di fare una cosa così importante sindaco su questo sono d'accordo con lei questa forse è una delle cose più importanti che da io da quando faccio politica insomma appunto va in votazione dentro quest'aula l'istituzione di una nuova provincia è un momento importante al di là del pensiero personale che ho sulle province che secondo me sono importantissime e personalmente abolirei le regioni quindi insomma ho una visione probabilmente diversa da molti di voi però lo dico è un invito che faccio ai consiglieri di maggioranza questa non può essere una scelta che può passare lo dico in modo molto pagato e tranquillo non può essere una scelta sindaco che può passare in maggioranza con i numeretti 13 14 12 11 cioè questa è una scelta importante lo dice la costituzione lo dice nello stesso articolo 8 di quel decreto legge che voi il 267 che citate qui usate soltanto l'articolo 21 ma lo stesso articolo 8 cita e invita alla partecipazione popolare cioè una roba seria si sta decidendo le sorti di un territorio facendo appunto l'istituzione di una provincia e mi rivolgo ancora ai consiglieri cioè votare e fare una scelta così mentre noi stiamo qui dentro chiusi in pochissime persone avendo la presunzione di decidere perché noi dobbiamo avere la responsabilità come ha detto qualcuno ma è il coraggio non ci manca il coraggio di votare insomma abbiamo sempre votato ma qui è un fatto invece di responsabilità di condivisione io insomma l'avvocato Michetti finito quel incontro fatto qui ci siamo salutati ci siamo presentati anzi e ha condiviso questo mio suggerimento quello di coinvolgere i cittadini in una come dire consultazione popolare perché credo che sia giusto e normale dire che dare un mandato ai cittadini e far partecipare i cittadini di Radisboni in questo caso sulla Costituzione quindi non sto parlando del merito che secondo me le citazioni e questo ancora più grave lo ritengo dire insomma e raccontare che l'Ateneo è stato detto dalla collega Ciarlantini l'Ateneo il Policlinico avremo un sacco di belle cose beh lo stesso lettera F della 267 dell'articolo 21 ci dice l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici le province preesistenti debbono garantire le nuove alle nuove in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti personali bene strumenti operativi risorse finanziere adeguate noi facciamo parte dell'area metropolitana lo dico probabilmente tutti i consiglieri lo sanno meglio di me dove c'è una popolazione di 4.342.000 abitanti noi stiamo costituendo una provincia con 200.000 abitanti immaginate proporzionalmente che cosa ci aspetta io come dire ripeto al di là dei documenti che non sono pervenuti delle leggi che ci garantiscono questo libro dei sogni giustamente come ha definito giustamente la consigliera Ciarlantini al di là di queste ripeto parole scritte e poco supportate da fatti concreti io invito ancora una volta che una scelta così importante non può passare alle 5 del pomeriggio in un'aula consigliare dove i cittadini non sanno neanche che si sta costituendo una nuova provincia la mia impressione e permettetemelo è che si sta creando un altro carrozzone della politica dove si sta creando il palazzo di vetro dove si farà un palazzo che costerà ai cittadini altre risorse e quindi probabilmente anche nuove tasse e dove dentro ci saranno i cosiddetti trombati della politica o magari come dire i gliuppi della politica come si diceva negli anni 80 dove ci sarà il presidente il vicepresidente il consiglio provinciale e quant'altro quando stiamo cercando di ridurre i costi appunto della politica io ho questa noi abbiamo questa sensazione vorremmo essere smentiti dai fatti però non ci sono elementi nel deliberato e neanche nell'unico incontro che è stato fatto in quest'aula è stato sostenuto qualcosa di diverso che ci ha convinto di una cosa saggia e buona per il nostro territorio quindi io invito ancora una volta insomma in modo molto sereno ma preoccupato ai consiglieri comunali di prendere veramente come dire coscienza di quello che si sta votando questo non è un atto che può essere votato perché c'è una maggioranza e una minoranza questo è un atto che deve essere votato dalla maggioranza dei cittadini e quindi dalla maggioranza dell'aula consigliare ma non dalla maggioranza intesa come ha ricordato il sindaco da 13 consiglieri comunali da una maggioranza dove i cittadini come dire con una consultazione danno un mandato pieno al consiglio comunale di votare è ovvio laddove i cittadini dovessero decidere in una consultazione a maggioranza che va bene l'adesione alla provincia di Roma io sarei il primo scusate alla nuova provincia sarei il primo a votare favorevolmente grazie consigliere Garau consigliere Fierli grazie presidente buonasera a tutti a chi ci ascolta e ci vede su Centro Maniera Radio un saluto al sindaco all'assessore ai miei colleghi consiglieri e chi è qui presente in aula faccio un saluto anche al presidente del consiglio di Fiumicino Roberto Severini fa piacere che è qui in aula è un tema importante ho sentito con attenzione i dettagli e soprattutto anche l'analisi del sindaco il mio pensiero non va tanto all'articolazione della proposta ma più che altro all'idea al progetto che forse ci deve portare a un pensiero più nobile di quello che vogliamo portare sul territorio soprattutto quello che noi rappresentiamo la difesa l'investimento la crescita il miglioramento aspetti importanti che io ho un po' enunciato legato a questo progetto a questa iniziativa che chiaramente non ci vede lontani come idea perché il contesto di un territorio ben marcato e ben conosciuto come il nostro sicuramente ha bene rappresentarsi in Italia nei confronti anche di altrui luoghi visto la centralità e il luogo che tra cui viene chiamata Porta d'Italia ma detto questo gli aspetti che vanno un po' più a essere coercitivi sono un aspetto che è quello dell'economia ovvero l'autosostenibilità di questa realtà di questa istituzione e anche la gestione quindi l'economia vuol dire la gestione di spesa parliamo di bilanci quando parliamo di bilanci vuol dire una buona gestione ma soprattutto anche un buon investimento scicchire politicamente nella rappresentanza i buoni investimenti sul territorio e proprio su questo è anche un po' la rappresentanza stessa oggi siamo un po' nelle difficoltà di avere dei rappresentanti di una certa stoffa sicuramente è un'epoca difficile di identità partitica identità insomma politica però sono sicuro che i cittadini la gente ha veramente bisogno della rappresentanza noi tutti ci stringiamo in un'Italia che ha bisogno di una rappresentanza vedi adesso la questione europea bene la rappresentanza deve andare a toccare i punti più specifici più piccoli dei territori proprio per non lasciare quei territori importanti che hanno costruito l'Italia hanno dato un'identità all'Italia e che poi vengono abbandonati perché? perché le istituzioni sono così alte lontane e grandi da non poter più toccarle poi c'è un altro aspetto che racchiude questo contesto che è la stessa funzionalità quindi l'opera centrale è la funzionalità di questo organo l'abbiamo parlato come di economia e come di rappresentanza ma vede anche un aspetto interessante in un territorio così vasto e importante e sono i servizi i servizi che si accentrano in questo territorio l'aspetto di un tribunale l'aspetto fiscale l'aspetto previdenziale sanitario scolastico sicurezza agricolo idrico igiene ambiente trasporto vede il TPL nostro che ha fatto già sì di una sinergia tra Cervetri e Ladispo che anche di allungarci nel contesto di Fiumicino visto che è alle nostre porte c'è un contesto anche di mobilità di viabilità bene tutti questi servizi sono sempre conosciuti con un rapporto a distanza e ecco che entra in merito il contesto dell'area metropolitana che prima era provincia di Roma l'area metropolitana è cambiata e c'è un sindaco non c'è un rappresentante nostro c'è un sindaco il sindaco di Roma è un esempio importante quello che noi abbiamo visto sulla cronaca del nostro territorio la scuola alberghiera bellissima scuola veramente un fiore all'occhiello di un territorio ma senza una palestra adesso è notizia da poco forse se non vado errato dopo dieci anni è notizia da poco che si comincia a scavare per fare una palestra ma fino a ieri visto che è demandato al potere della provincia di Roma di fare una scuola in questo caso di istituto superiore e di lasciarla senza una palestra questo fa un po' pensare e sicuramente questo se fa pensare con una cronaca oltre al fatto della proposta ci fa dire che ci deve prendere forza l'opportunità ed ecco che vorrei leggere l'opportunità perché molte volte mi soffermo sul lato sportivo un po' perché lo tocco personalmente beh se arriva un'onda sicuramente un surfista la vede come un'opportunità se invece non andiamo a conoscere il modo di poter cavalcare quel progetto sul nostro territorio potrebbe essere una minaccia io la leggo come un'opportunità e lo faccio insieme a confredo Bernardini a Loredana Buccheri Giovanni Cozzi Serafino De Simoni Raffaele Iannilli Adriano Nardocci Giovanni Ruscito Ezio Silvieri Aldo Storti Fausto Ceraulo ovvero lì c'era forse una minaccia per qualcuno noi oggi siamo qua con opportunità oggi la dispulia è bella è efficiente perché ci hanno creduto alcuni e l'hanno vista come opportunità è questo il messaggio che lascio Presidente in virtù della città come è nata e come si sta sviluppando e allo stesso cosa lascio il messaggio di come una provincia fatta di rappresentanza e di una buona economia dei singoli territori sia veramente un passo avanti un'emancipazione che ritorna al suo posto grazie grazie consigliere Fierli consigliere Marongiu buon pomeriggio a tutti i cittadini che comunque ci seguono in streaming o i presenti qua in aula oggi siamo chiamati con grande senso di responsabilità a esprimerci sul futuro ma quello che mi chiedo io inizialmente la nuova provincia è il luogo idoneo di portare le nostre città verso il futuro un nuovo ente che cosa vogliono i cittadini e le cittadine di questo territorio vogliono servizi ma noi siamo qua a decidere per la vita di 250 mila persone e le persone contano questo è un dato importante io l'ho ribadito anche col professor Michetti ho partecipato il 5 marzo ma vi rendete conto la tempistica stringente in cui andiamo a decidere il futuro del nostro territorio primo comunicato stampa il 19 di febbraio il 5 marzo facciamo questa questa assemblea commissione il 19 è una commissione più o meno di 30 40 minuti e oggi siamo qua in aula anche se altri comuni si sono già espressi vedo qua la rappresentanza ecco di Fiumicino che saluta in maniera istituzionale però quello che mi sono chiesta il 5 marzo dal 5 marzo ad oggi ma anche un po' prima oltre ad aver fatto rassegno oltre ad aver studiato questa è la scelta è stata una scelta ponderata può essere una scelta attenta non ci può essere incertezza un po' anche a livello normativo c'era una non compatibilità c'era una discussione quindi questa iniziativa si può scrivere in un quadro normativo vigente sono domande che da consigliere da cittadino mi sono posta e che ci dobbiamo opporre nel momento in cui andiamo a votare questa delibera per riallacciarmi al consigliere Papparella e alla consigliera Molica è ovvio che l'aspetto procedurale è importante e non siamo qua per evidenziare solo questo aspetto ma perché siccome siamo chiamati ad avere un ruolo importante noi dobbiamo comunque farlo presente ai cittadini dobbiamo essere chiari dobbiamo essere trasparenti allora mi chiedo io effettivamente perché non mi sono state date delle risposte che ho posto in maniera veramente molto tranquilla al professor Michetti erano gli obiettivi perché in questo va di me che in qualche modo forse è emerso con delle slide in quel contesto si parlavano dei 25 punti a favore e non degli aspetti critici si fanno analisi costi e benefici quando si presentano dei progetti qual è l'analisi economica e sociologica di questo territorio è come se si costruisse l'estetica di un palazzo senza vedere le fondamenta al di là che magari qua quei bialazzi possano piacere però le fondamenta sono fondamentali ed è il punto dal quale si deve partire per cui mancano a mio avviso i fondamenti sia normativi che amministrativi e per questo leggo alcuni appunti per essere anche più facile la chiarezza di quello che voglio dire quindi noi siamo convinti che le entrate derivanti dalla nuova provincia non sarebbero sufficienti a garantire una sostenibilità economico-finanziaria dell'ente che dovrà comunque ereditare una quota a parte di spesa dal personale attualmente in dotazione presso la città metropolitana di Roma Capitale oltre all'ammortamento dei mutui per le opere ricadenti nel perimetro di competenza riteniamo anche che la stima delle entrate non possa superare 50 milioni di euro su base annua contro le previsioni riportate nello studio elaborato che vengono in qualche modo quantificate in 73 milioni questo si evince anche dalla rassegna stampa non solo dei documenti che in qualche modo sono stati veicolati quindi ci sono diverse e numerose criticità quello che ci possiamo chiedere effettivamente in questa assenza totale di discussione possiamo oggi assumerci noi questa responsabilità come lo facciamo con che faccia ci presentiamo ai cittadini che in qualche modo si ritroveranno una decisione che è caduta dall'alto al via del fatto che noi siamo anche loro sessi rappresentanti questo è il mio primo intervento grazie consigliere Morongio consigliere Penge buonasera a tutti buonasera sindaco a chi ci ascolta la casa sicuramente questa decisione che andremo a prendere sarà una grande responsabilità per tutti quanti come è successo tanti anni fa come ha detto il sindaco anche mio nonno decise l'autonomia da Cervetri alla Dispoli oggi anche io mi trovo a decidere se far diventare cioè trasferire l'area metropolitana da Roma metropolitana a provincia è una decisione importantissima sicuramente avremo dei benefici perché da quando è nata città metropolitana diciamo la parte nord non ha avuto grandi benefici abbiamo avuto anche dei rappresentanti i quali a mio avviso non è che hanno portato grandi risultati da un punto di vista dei fondi per poter avere tutte quelle infrastrutture necessarie vista la crescita demografica vista la crescita di trasferimento di gente che da Roma si è spostata da questa parte fermo restando che due città molto importanti come Cilavecchia come Fiumicino che hanno avuto una crescita esponenziale sia da un punto di vista del turismo Cilavecchia come Porto e Fiumicino come Aeroporto che sono tra i più importanti in Europa hanno creato non grandi disagi per quanto riguarda le infrastrutture io penso io penso che far diventare il nostro comprensorio una provincia autonoma sia una cosa importante perché noi potremmo avere per quanto riguarda la nostra zona dei rappresentanti che possono sicuramente battagliare per avere maggiore importanza ed avere maggiore infrastrutture maggiori servizi sicuramente non sarà un passaggio semplice da area metropolitana alla provincia avete tutti la cosa importante sarà quella che avremo degli organi istituzionali e principali avremo delle sedi saremo diciamo una provincia più piccolina però con molta più accessibilità nei dati nelle sedi dove poter andare tipo IMSS scuole prefettura istituti di vario genere io per quanto mi riguarda sono favorevole ci vorrà sicuramente qualche anno non sarà una cosa molto semplice però per quanto mi riguarda sono favorevole grazie grazie consigliere Penge consigliere Cervo grazie presidente buon pomeriggio a tutti i presenti e chi ci ascolta da Centro Mare Radio al di là dell'aspetto procedurale che tra l'altro io mi riferisco poi agli appunti della consigliera Mollica e del consigliere Paparella ritengo opportuni e validi ma voglio sviscerare un po' quello che è l'aspetto politico di questa situazione di questo voto oggi infatti ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo esprimere il nostro voto su una questione rilevante per il nostro territorio ritengo però che questa proposta sia una proposta che necessiti di maggior tempo e che a mio avviso non sia vantaggiosa per il nostro territorio e poi per diverse regioni che sarò qui adesso a spiegarvi sicuramente la prima la prima su tutte è quello che c'è stata la mancanza diciamo di un consenso popolare di un coinvolgimento della popolazione è vero che noi dobbiamo avere siamo stati noi siamo espressioni del voto popolare ma è anche vero che comunque su variazioni i cambiamenti del territorio necessita veramente un coinvolgimento diretto della popolazione quindi il tempo ci avrebbe aiutato ad avere incontri maggiori con la popolazione sono addirittura non dico un referendum ma quantomeno un'interazione più vicina con i cittadini ci avrebbe consentito di prendere questa scelta in modo diverso a mio avviso c'è anche una mancanza di visione strategica per Ladispoli non parlo della provincia in generale ma proprio per il territorio di Ladispoli io vado vado piatto su questa su questa su questa situazione io mi vedo schiacciato tra due poli importanti che può essere Cilavecchia e Fiumicino sono realista un po' per il suo ragionamento che faccio quindi questa cosa a me preoccupa onestamente e come preoccupa a me preoccupa anche con persone che ho avuto modo di parlare in questi giorni per l'estate di Ladispoli quindi dal punto di vista strategico io non riesco a vedere quali potrebbero essere le opportunità per la nostra città poi faccio una valutazione anche dal punto di vista territoriale andiamo un po' in controtendenza con quella che è da più di 15 anni che è stata quella dell'abolizione delle province noi andiamo a creare andiamo a istituire una provincia e andiamo a creare un ulteriore frammentazione del territorio soprattutto ci andiamo a incastonare su una provincia di Roma che come ha detto qualche collega poco anzi conta numeri importanti e noi andiamo a contare veramente in modo esiguo ma ciò crederebbe anche una sorta di non dire di competizione ma comunque di non rilevanza non andremo a essere punto di riferimento su quelle che potrebbero essere magari soddisfazioni sul territorio ultimo punto questo è un po' l'ho fatto un po' questo è un po' con il cuore è un po' un aspetto di identità io sono nato in questo territorio anzi non sono nato qua sono nato fuori ma sono cresciuto nella mia datispoli e sto qua da più di 45 anni e un po' mi rivedo come cittadino della Dispoli residente della Dispoli provincia di Roma quindi un po' mi identifico su questa cosa e staccarmi da questa identità un po' non mi nascondo che è un po' comunque il problema principale al di là dell'aspetto di cuore è che il tempo è stato veramente esiguo e queste decisioni di rilevanti per il territorio debbano essere prese con maggior tempo grazie consigliere Cervo consigliere Paliotta sì grazie comincio con alcune considerazioni diciamo di cornice prima di passare poi ai contenuti almeno per come noi li vediamo questi contenuti la prima considerazione di cornice è che una una discussione come questa che comunque vada anche se sappiamo probabilmente come andrà è comunque una discussione importante che rimarrà sicuramente negli annali del nostro comune e non capisco perché a questo consiglio comunale sono stati aggiunti due punti così forse che saranno probabilmente fonte di polemica cioè era stato convocato un consiglio sulla creazione della provincia è stato spostato sono stati aggiunti dei punti forse formalmente era più opportuno dare a questa discussione una pulizia nel senso totale cioè parlare soltanto della provincia in questa seduta ripeto un fatto di cornice l'altra cosa che forse potrebbe essere la considerazione finale ma la faccio all'inizio sulle carte di identità o sui documenti o su altre cose come qualcuno ricordava non ci sarà più scritto se le cose andranno come voi proponete provincia di Roma capitale ma provincia probabilmente di Fiumicino perché è inutile secondo secondo noi far credere che ci sarà un nome diverso ci sono 75 province in Italia e tranne una che è della Sardegna ma la Sardegna ha uno statuto speciale tranne una hanno sempre il nome di una città qualcuna ha il nome di due città ma tutte le province hanno il nome delle città quindi non avremo più scritto questa cosa con la Dispoli provincia di Roma capitale ma di probabilmente di Fiumicino o comunque di un'altra città è solo un fatto sentimentale è solo un fatto a cui qualcuno tiene e qualcuno no da un punto di vista economico se uno in Inghilterra o in in Svezia o in Germania cercherà qualcosa qualche turista di venire in questo territorio che la Dispoli sia città metropolitana di Roma oppure di Roma capitale oppure non sia logisticamente conterà questa cosa non lo so però sicuramente è un dato anzi da un punto di vista formale sarà il dato più forte da un punto di vista formale qualcuno ricordava prima il momento in cui la Dispoli votò anzi Cerveteri diede il voto favorevole al fatto che la Dispoli diventasse comune autonomo perché dobbiamo ricordare che fu Cerveteri e i cittadini i consiglieri li elencati erano i consiglieri di la Dispoli che facevano parte del comune di Cerveteri ve la posso raccontare perché avevo 20 anni e ricordo quello che successe allora ma vi assicuro che c'era un entusiasmo nella città una voglia ma proprio veramente dico nei bar per dire nei posti di lavoro dovunque si parlava di questa cosa perché c'era un entusiasmo cioè quella fu un fatto capitale e tutti conoscevano quello che stava accadendo la Proloquo era alla Dispoli intorno alla Proloquo si radunarono anche gli altri partiti le sezioni dei partiti e si arrivò a un voto ripeto che tutti accolsero con entusiasmo qualcuno a Cerveteri è un pochino meno sapete che ci furono anche proteste però diciamo fu un voto che entusiasmò la città io non so quale sia la vostra percezione ma noi come PD abbiamo messo un post su questo argomento ora per carità non è che tutto va tutto diciamo quello che accade in una città si vede sui social o meno però diciamo ormai abbiamo capito che i social sono importanti beh non avevamo mai avuto tante persone che vedevano il post la stragrande maggioranza di queste persone diciamo ma che è questa cosa cioè al di là di quello che se ne pensi la stragrande parte dei cittadini da Dispoli non la sa questa cosa cioè non è a conoscenza ora non la voglio dare come un dato di colpa però può accadere che oggi ci siano strumenti diversi rispetto a una volta però probabilmente bisognava discuterne di più perché e qui entro anche un pochino in merito prima qualcuno diceva che un elemento essenziale quando si costituisce un ente come istituzionalmente come la provincia i rapporti prevalenti da un punto di vista economico sociale e culturale ma scusate ma diciamocelo chiaramente ma la stragrande maggioranza dei cittadini di la Dispoli ma dove c'è là l'interesse economico sociale e culturale ma c'è la Roma la metà dei cittadini di la Dispoli viene da Roma a parte quelli che ci sono nati ma quelli che abitavano a Roma e hanno scelto qui allora al di là di usarlo strumentalmente o meno questa cosa ma al teatro al cinema all'università i rapporti economici si hanno prevalentemente con Roma da un punto di vista sociale economico vero l'area metropolitana se da un punto di vista istituzionale arriva a Civitavecchia in realtà finisce a la Dispoli perché Civitavecchia ha una sua autonomia adesso ripeto sto parlando al di fuori del fatto delle istituzioni sappiamo che la metà dei cittadini di la Dispoli ha rapporti economici quotidiani con Roma 13.000 persone partono ogni giorno per Roma al cinema al teatro all'università si va a Roma poi non solo a Roma ma prevalentemente in maniera proprio molto prevalente si va a Roma allora dire che questo territorio è omogeneo è omogeneo perché sta sul mare in gran parte ma solo per quello perché il resto ripeto nessuno manda il figlio a scuola a Fiumicino o da altre parti questo lo dico facendo la fotografia attuale prima il sindaco diceva che le cose di sostanza cioè economiche dei dipendenti le sedi sono cavilli burocratici io non credo che siano cavilli burocratici perché per decidere in maniera diciamo consapevole non è che si può soltanto dire vabbè a me piacerebbe fare un'altra provincia io con Roma ci sto con male bisogna anche capire i dati economici i dati diciamo che cosa avverrebbe dal punto di vista finanziario o normativo e altro io non so che valore dare a questo vademecum dico non so perché so che è stato distribuito in quasi tutti i consigli comunali anche quando c'è stata la discussione qui è un po' strano che non ci sia una firma non ci sia non ci sia nulla faccio notare che su 96 fotografie che stanno su questo vademecum ce n'è una di Ladispoli e 95 degli altri luoghi forse insomma chi l'ha fatto già non dava non dava molta importanza al nostro territorio perché c'è il centro di Fiumicino c'è il centro di Civitavecchia ci sono i centri di tutte le città c'è solo Torre Flavia per noi anche abbastanza ma ridotta 96 foto ce n'è una sulla Dispoli poi a un certo punto quando si parla di possibilità di nuovi posti di lavoro si parla di i vari comuni però non purtroppo non essendoci numeri a queste pagine è anche difficile ritrovare le cose quindi è una cosa non firmata senza numeri quando si parla dei nuovi posti di lavoro potrebbe localmente generare quanto segue a Fiumicino circa 1209 unità 1000 a Civitavecchia 280 a Tarquinia poi circa 80 nei comuni intorno ai 5.000 abitanti se si comincia così amici del territorio si comincia male perché se questo documento che poi è stato alla base del convincimento di molti consiglieri comunali è fatto facendo finta non considerando che c'è la Dispoli che probabilmente da un punto di vista numerico non è l'ultimo di questi comuni cominciamo male comunque intanto per fare alcuni altri minuti cerco di non partire negativamente perché l'ha proposto il centrodestra o perché alcuni sindaci partiamo dal punto di vista così vediamo certo lato positivo qualcuno potrebbe dire è una novità in fondo siamo abbastanza scontenti di come sono andati i rapporti con Roma proviamo questa novità però vediamo un po' poi come ci viene posta ma perché ci viene a raccontare che ci sarà il poligrini o l'università o la facoltà di medicina ma perché le province decidono queste cose ma dove sta scritta questa cosa qui perché ci viene detto perché sicuramente ci sarà la prefettura la questura ma in una fase in cui dalla legge del Rio in poi legge che non ha avuto grande fortuna ma si è sempre puntato a dire diminuiamo le spese della politica diminuiamo le spese pubblica su questi aspetti istituzionali perché adesso facciamo credere che invece ci saranno 5.000 dipendenti 5.000 dipendenti diretti e indirettamente sapete quanti dipendenti ha l'area metropolitana di Roma capitale 1.300 1.300 Roma capitale per 4 milioni di abitanti e noi raccontiamo che ci saranno 5.000 dipendenti e altri indotti cioè purtroppo non è così allora si può anche credere che una novità sia comunque positiva noi non crediamo che questa novità sia comunque positiva sicuramente c'è un problema di come funzionano le province e le aree metropolitane i rapporti da come è andata la legge del Rio in poi sappiamo che ci si tornerà su questo aspetto istituzionale ma francamente le promesse che sono in questo documento che poi da una parte si dice che non deve contare dall'altro sappiamo che ha orientato molte scelte ecco le cifre ci dicono per esempio da un punto di vista economico una novità per me io non sapevo che le immatricolazioni contano moltissimo nei finanziamenti delle aree metropolitane beh le immatricolazioni avvengono a Roma e chi è esperto di questo settore ci dice che non è che una nuova provincia sicuramente sposta le immatricolazioni da un'altra parte comunque ripeto noi abbiamo tante perplessità perplessità le abbiamo anche sui tempi di quasi nulli di discussione di confronto con i cittadini probabilmente tutti i cittadini venuti da Roma o nati a Roma o che venuti ad abitare qui da Roma o che comunque ogni giorno prendono il treno per andare a Roma e sono 15.000 io penso che non saranno tanto entusiasti di questa di questa novità e ripeto da quello che abbiamo potuto vedere nelle risposte sui mezzi di comunicazione e di confronto c'è molta molta meraviglia e francamente pochissimo entusiasmo grazie consigliere Pagliotta consigliere Vaparella sì grazie presidente diciamo prima mi sono concentrato su un aspetto procedurale che diciamo è stato un pochino così sbrigativamente archiviato dal sindaco che però secondo me a volte la forma è sostanza come in questo caso perché il paradosso è che leggendo diciamo non soltanto le quattro righe che sono state citate in delibera una delibera di dieci pagine ma poi il vademecum famoso che per le vie brevi ci sarebbe stato inviato dal presidente peraltro non a tutti perché sono i capigruppo quindi che non è capigruppo diciamo non ha avuto modo di vederlo però diciamo così questo vademecum alla fine è circolato no? facciamo conto che è stato letto un vademecum di 153 pagine quindi un vademecum molto molto corposo all'interno di questa visione di cui parla questo vademecum viene messa al centro il fatto che bisogna creare una provincia che in qualche modo sia un ente con una maggiore autonomia rispetto a l'attuale condizione della città metropolitana o meglio rispetto a quello che vivono i nostri comuni che sono inseriti nella città metropolitana questo per il famoso centralismo democratico quindi in qualche modo sembra questo qui un esperimento diciamo così molto molto vicino ai municipalismi insomma un'azione veramente rivoluzionaria e democratica diciamo così che difende i territori ebbene questa che è la sostanza nella forma viene portata avanti attraverso un atto secondo me anche di prevaricazione e mi riferisco ad esempio a un comune che ha citato prima il sindaco il comune di Cerveteri che si dice visto che il comune non può essere stralciato perché non sta nella parte periferica diciamo dei comuni coinvolti e quindi deve essere tenuto dentro il disegno progettuale per forza qualora il comune di Cerveteri e i suoi cittadini e i suoi rappresentanti eletti decida che questa soluzione non fa per lui quindi i nostri colleghi qualora non vogliano andare avanti su questa strada il comune di Cerveteri diciamo così ex legge comunque sia farà parte di questa costituenda provincia quindi diciamo così nei confronti dei nostri di quelli prima l'ex sindaco Pagliotta ha citato come i nostri ex concittadini e Cervetrani noi ce ne freghiamo totalmente della loro volontà e li inglobiamo in questo progetto qui quindi già questo è uno degli aspetti antidemocratici di questa operazione c'è un altro aspetto poi antidemocratico che come diceva il sindaco Pagliotta io per primo ma tutti i miei coetani e non solo anche persone insomma più grandi hanno sono andato all'università a Roma hanno avuto rapporti culturali costanti con Roma sono usciti a Roma sono andati al teatro a Roma banalmente quando andiamo a prendere l'aereo andiamo a prenderlo a Fiumicino ma andiamo a prenderlo a Roma a Fiumicino quindi anche questo da oggi in poi tutte queste persone se questo disegno passerà naturalmente dovrà pronunciarsi il Parlamento ci sarà il parere della regione ma se dovesse passare faranno tutte queste persone parte di una nuova provincia ebbene nemmeno vogliamo sentire che cosa ne pensano perché è vero quello che dice il sindaco noi abbiamo la responsabilità di decidere però è anche vero che nel momento in cui veniamo eletti veniamo eletti in base a dei programmi questa è un'iniziativa che nell'arco di un mese con un incontro improvvisato veloce e ad una sola parte perché sostanzialmente c'era un solo esperto che aveva curato questa cosa fra i relatori portiamo avanti un'ipotesi che stravolge completamente il contesto amministrativo in cui viviamo ebbene nei programmi di tutti noi questa roba non c'era quindi una cosa è prendersi le proprie responsabilità è una cosa è il delirio di onnipotenza che è una cosa in cui nessun amministratore deve incappare perché diciamo noi siamo qui con dei limiti ci presentiamo con dei programmi e non è possibile che nel giro di un mese e mezzo senza aver sentito il cittadino che cosa ne pensa ma senza che il cittadino neppure lo sappia perché ha detto bene il consigliere Pagliotta molte persone mi stanno scrivendo in queste ore perché magari hanno ricevuto qualche informazione stupite che oggi ci sia un punto di questo tipo in discussione in consiglio comunale e poi verrei diciamo a dati un pochino più appunto di sostanza perché il sindaco dice valutate però nel merito se questa cosa è fattibile se è una cosa che sarebbe positiva quello che noi vediamo basandosi non solo su quelle quattro righe in delibera perché se fosse per quello non dovremmo proprio esprimerci perché non c'è proprio materiale per fare una valutazione ma sui dati riportati in quelle famose 153 pagine che anche a livello di finanziamento non ci soddisfa quello che viene riportato cioè non sappiamo quali saranno le veri fonti di finanziamento di questa provincia perché non è che questa sarà una provincia a parte slegata da come funziona il bilancio di tutte le province in generale l'ha ricordato prima il consigliere Pagliotta cioè le province per lo più tra le entrate ci hanno l'RCA ci hanno la tassa automobilistica ci hanno l'immatricolazione auto sono queste le voci principali più qualche altro tributo proprio derivato che però è minoritario nell'ambito del bilancio più generale e se considerate che riparto dal famoso articolo 21 che citava prima il consigliere Perretta lettera G il fatto che le province preesistenti debbano garantire alle nuove in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti personale bene strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate ebbene la percentuale della popolazione della nuova provincia rispetto alla città metropolitana da cui ci sarebbe questa famosa secessione è del 0,04% quindi stiamo parlando di scusate del 4% quindi stiamo parlando di veramente bazzecole quindi come possiamo garantire tutto quello di cui si parla in quel famoso vademegum con delle entrate così esigue c'è poi un altro pilastro un altro driver diciamo di questa proposta che è basata sulle infrastrutture cioè tutto si basa sul fatto che la nuova provincia potrebbe disporre dell'aeroporto che ripeto si chiama Roma-Fiumicino fino a prova contraria del porto di Civitavecchia più eventualmente anche il nuovo porto croceristico diciamo che c'è un progetto che sta andando avanti ebbene noi siamo sicuri diciamo che a fronte del fatto che l'ultima provincia da quanto mi risulta poi non so se voi avete dati più aggiornati da quanto mi risulta l'ultima provincia istituita in Italia è stata fatta nel 2004 leader questa sarebbe la prima dopo 20 anni dopo che gli indirizzi legislativi sono tutti contrari sono tutti in un'altra direzione la del Rio andava in una direzione diametralmente opposta a questa di questo esperimento noi siamo veramente convinti veramente crediamo che ci verrà consentito diciamo così di avere all'interno della gestione di questa provincia diciamo delle infrastrutture strategiche come l'aeroporto di Roma Fiumicino e il porto di Civitavecchia io penso che già questo sia faccia decadere diciamo così tutta la la serietà di questo progetto c'è poi la questione delle varie diciamo così istituzioni che si porterebbero su questa provincia ad esempio il Policlinico che non è assolutamente competenza regionale io penso che l'unico vero tema legato non è scusate l'Apsus è competenza regionale e non provinciale e quindi non potrà garantire né questa provincia né quella attuale né di certo il Comune della Dispoli come aveva diciamo così promesso in campagna elettorale del Sindaco Grando alcuna ospedale e io credo che noi come la Dispoli attiva insomma parlo per il mio gruppo pensiamo che sulle province si sia consumato in Italia un gioco veramente a perdere da tutte le parti politiche anche da parte del centro-sinistra e pensiamo che a proposito di carta costituzionale l'attuale conformazione delle elezioni l'attuale sistema di elezione delle province sia un sistema vicino all'incostituzionalità su questo la Corte si è espressa in passato su alcuni temi su questo diciamo non è mai andata a fondo però è evidente che non poter eleggere i propri rappresentanti ma demandare tutto a un'elezione di secondo livello già di per sé fa decadere la rappresentatività delle province e quindi delle città metropolitane questo è il vero vulnus che bisognerebbe sanare e che a livello nazionale bisognerebbe impegnarsi a sanare e lo dico soprattutto ai colleghi del centro-destra che in questo momento controllano il governo controllano la regione questo è veramente un vulnus perché la vostra ipotesi che non prende atto di tutto ciò che prevede la normativa del Rio la legge del Rio e così il decreto legge 95 del 2012 che prevedeva tutta una serie di requisiti minimi che questa proposta bypassa completamente l'unica cosa diciamo di cui prende atto di quella normativa lì è il fatto che questa sarà un'elezione di secondo livello voglio poi ricordare anche una cosa perché sembra se no che la città metropolitana finora su questo territorio non abbia fatto completamente nulla sicuramente ci sarebbe da fare di più e sicuramente diciamo la classe politica di cui i colleghi di maggioranza e il sindaco sono esponenti potrebbe fare di più per coordinare anche i nostri esponenti del centro-sinistra dei civici del centro-destra della destra della sinistra nelle opportune sedi come la città metropolitana per fare il bene anche di questo territorio evidentemente in passato non è stato vostro interesse dopodiché alla Dispoli segnalo che l'alberghiero è stato finanziato la palestra dell'alberghiero con 2,3 milioni di euro grazie comunque all'impegno della città metropolitana una cosa che ha seguito anche il consigliere Pascucci ma in generale la città metropolitana ha finanziato per 2,3 milioni di euro una delle opere che in questi mesi stiamo portando avanti è la pista ciclabile che da quanto mi risulta poi mi si corregga se sbaglio le cifre sono circa 600 mila euro di finanziamento della città metropolitana quindi diciamo così la città metropolitana semmai andrebbe rafforzata e questo vale in realtà per tutte le province e le città metropolitane in Italia dopodiché c'è un altro tema ancora cioè che è il tema appunto dell'attrazione di questa nuova provincia cioè sarà una provincia con quale capoluogo perché è bello sperimentare però poi alla fine ci dovrà essere un capoluogo di provincia sarà la città più numerosa quindi Fiumicino come pensiamo sarà Civitavecchia anche su questo ci sembra che ci siano un po' le idee confuse perché nei consigli comunali che hanno trattato questo tema consigli comunali che diversamente da noi hanno avuto diciamo così l'onore di leggere il vade me con Montero che gli è stato trasmesso che è stato allegato qualcuno faceva diciamo così propendere la lancetta per Civitavecchia qualcuno del Fiumicino poi alla fine ci potrebbe essere pure una resa dei conti e io credo mi spingo a fare una previsione anche all'interno degli stessi partiti della maggioranza ci potrebbero essere delle conflittualità in futuro su questa proposta perché io non sono convinto che quando si rivoterà diciamo così quando si staranno di nuovo le elezioni della città metropolitana di Roma si rivoterà a Roma il centrodestra che oggi è dato per favorito sia tanto contento diciamo così di lasciare un pezzo del proprio territorio quindi ho cercato diciamo di fare una sintesi di tutte le argomentazioni che ci spingono a votare in modo nettamente contrario a questa proposta ritengo anche che sui territori ci dovrà essere un'informazione che visto che chi ci impone oggi quest'atto non l'ha fatta è necessario che facciano le opposizioni e proseguiamo diciamo questo dibattito e stiamo diciamo a vedere cosa verrà fuori grazie grazie consigliere Paparella consigliere Trani non mi dilungo quindi faccio la mia dichiarazione di voto devo dire che condivido diciamo al 100% tutto quello che ha detto il consigliere Penge le sue considerazioni sono le mie e l'unica cosa soltanto un appunto sì è vero è vero che comunque città metropolitana ha fatto tanto per il territorio ma è anche vero che quanto tempo ci abbiamo messo per ristabilire la viabilità quante volte il consigliere Ascani che rappresentava qui il nostro territorio si è dovuto battere per ripristinare la viabilità su via 7 Venepalo credo che una delle cose positive sia proprio il controllo del territorio può essere un'opportunità sì può essere un'opportunità quindi per quello che rappresento in questa fase quindi la formazione di Italia Viva io sono favorevole grazie grazie consigliere Trani credo tutti i consigli hanno fatto richiedere il primo intervento consigliere Asciutto ve lo prego grazie Presidente sei dimenticato di me va bene allora io ho ascoltato tutti devo dire che io chiedo ai nostri rappresentanti politici di essere più ottimisti perché se trasmettiamo sempre negatività nei progetti che non conosciamo è ovvio che per alcuni sarà un fallimento allora si deve partire dal principio di vedere tutto quello che c'è di positivo giustamente come ha detto il consigliere Tani e anche il consigliere Penge quante volte abbiamo avuto difficoltà nel ripristinare alcune viabilità provinciali quante volte abbiamo avuto difficoltà nel costruire nuove scuole tutto quello che è di competenza di ordine secondario e superiore cioè voglio dire qui dobbiamo riprogrammare un'intera provincia finalmente iniziamo a parlare di piani intercomunali piani intercomunali che riguardano una realtà omogenea del territorio ci ritroviamo tra due poli fondamentali di sviluppo e questa è la nostra forza e non mi venite a dire che no una provincia che inizia a parlare su un piano intercomunale un nuovo piano urbanistico provinciale piani intercomunali tra comuni per realizzare infrastrutture di prima necessità noi ci dobbiamo anche ricordare che stiamo andando verso una transazione energetica fondamentale non possiamo più utilizzare il combustibile fossile dobbiamo impensare la rinnovabile ma volete veramente credere che città metropolitane ci porta verso questa direzione dobbiamo inquinare di meno creare sviluppo noi come città della distra abbiamo già iniziato la rigenerazione urbana col FUA scusate col FUA no scusate col PEBA però abbiamo il piano del verde da fare abbiamo il piano del traffico il pumus da realizzare immaginate di realizzare un pumus a livello provinciale ci aiuta a creare più servizi per le auto elettriche una diciamo mobilità che deve essere senza inquinamento ma la provincia veramente stando in una provincia metropolitana riusciamo a creare andare verso la transazione energetica che ci aspetta il futuro no non credo proprio quindi secondo il mio punto di vista la provincia è quell'ente proprio tra comune e regione e quando un territorio è più piccolo è facilmente più gestibile e controllabile e i corazioni della politica non devono esistere ci devono essere persone attive della politica che fanno il bene comune e la provincia è un bene comune così come il comune è un bene comune dei cittadini quando noi pensiamo a questi grandi io li chiamo pionieri dell'autonomia del comune della Dispoli possiamo dire che anche noi lo siamo oggi se riusciamo a lavorare insieme possiamo creare il benessere dei cittadini io ci credo in questo progetto e sono qui per votarlo e quindi pienamente il mio sostegno perché ci vuole conoscenza preparazione bisogna studiare bisogna studiare per far funzionare le cose iniziamo a studiare cerchiamo di trovare soluzioni veramente che possono portare a uno sviluppo reale del territorio considerando che già abbiamo le basi ben solide aeroporto porto di cività vecchia e che cosa manca manca una mobilità sostenibile iniziamo a lavorare su una mobilità sostenibile così creiamo un ambiente più pulito per i nostri figli perché l'inquinamento porta soltanto malattie pensiamo a decarbonizzare cività vecchia cioè il carbone deve essere eliminato perché la centrale a carbone di cività vecchia che porta l'energia elettrica in tutto il territorio della nostra provincia soprattutto non fa altro che portare malattie quindi bisogna iniziare a pensare a temi veramente seri ed importanti sviluppare il settore ittico la sostenibilità il fermo pesca per creare una sostenibilità del chilometro zero e questo è soltanto per quanto riguarda il mare e poi l'agricoltura cioè noi dobbiamo incentivare lo sviluppo di che cosa di conoscenze del territorio amare il nostro territorio e soprattutto creare possibilità di sviluppo per i nostri figli attraverso la sostenibilità reale e concreta quindi non posso che essere favorevole grazie grazie consigliere Asciutto procediamo con il secondo intervento in ordine consigliere a Cialantini sì grazie presidente io torno a ripetere vabbè dopo il mio primo intervento non ho avuto risposta ma questo mi sembra normale perché poi voglio dire sentiti gli altri interventi io mi rendo conto che poi si sta parlando ma senza avere poi fatti concreti in realtà cioè noi stiamo facendo un salto nel buio poi si parla di coraggio si parla no perché non siete coraggiosi perché nella vita bisogna avere coraggio cioè qui non si tratta di coraggio un buon amministratore deve anche considerare i pro e i contro di una situazione quello che io non riesco a capire e continuo a dirlo cioè ma pensiamo veramente che l'aeroporto di Roma Fiumicino e il porto di Civitavecchia che sono concessioni dello Stato diventano a gestione della nuova provincia cioè ma vogliamo far credere questo ai cittadini cioè io credo veramente che stiamo rasentando il ridicolo rispetto a questa cosa allora diciamo chiaramente perché io credo che nella vita ci voglia onestà intellettuale e politica se a qualcuno appartiene diciamo chiaramente che questo è un ennesimo carrozzone che si vuole creare in questo territorio che è un territorio importante perché noi siamo un territorio importante per mantenere i posti di qualcuno allora io voglio dire con estrema serenità e tranquillità ve la votate non prendete in giro i cittadini per quale motivo non si è scesi in piazza e non si è fatto un referendum per avvertire i cittadini che ci sia sta cosa nessun cittadino del comune di Radispoli o comunque pochissimi sono informati di questo cosa epocale che state cercando di fare dicendo che siete coraggiosi siete coraggiosi ma in cambio che cosa abbiamo io torno a ripetere poi sono ripetitiva però io ritengo che anche dal punto di vista dei trasporti tra Roma e Radispoli noi abbiamo un tessuto importante per cui i nostri figli quando andranno all'università perché io sto aspettando probabilmente i figli dei miei figli andranno in qualche università a Fiumicino io spero che Fiumicino metta i treni insomma un po' più di frequente perché altrimenti non andranno neanche all'università quindi io sì corto e colereo io credo che bisogna essere onesti intellettualmente ripeto e cominciare a parlare di cose serie voi pensate veramente che questo nostro di staccarsi possa essere proficuo per la nostra città io credo e sono convinta di questo che probabilmente andrebbe aggiustato il tiro la politica deve intervenire con l'area metropolitana e cercare comunque di relazionarci in maniera diversa detto questo però non credo che la soluzione per poter avere qualcosa in più che poi non mi sembra che in realtà mi è stato detto quel qualcosa in più che arriva a parte il libro dei sogni che è scritto in delibera il policlinico il policlinico io so da sempre che è la regione che si occupa comunque di destinare le strutture ospedaliere e tantomeno il policlinico sui territori noi abbiamo sempre battagliato per avere un ospedale tra Ladispoli e Cervetice è sempre stato detto no perché c'è l'ospedale di Bracciano c'è l'ospedale di Civitavecchia quindi non vi spetta altro voi pensate che adesso perché diventiamo provincia ci arriva il policlinico con l'Ateneo cioè ragazzi ma veramente pensiamo di prendere in giro i cittadini in questo modo io mi voglio mi voglio confrontare mi voglio voglio parlare con i consiglieri di opposizione che hanno dei figli come ho figli io ma voi pensate veramente che questa sia la soluzione per far sì che i nostri figli crescano in maniera ecosostenibile e sana come è detto probabilmente non abbiamo fatto i conti con i fondi del PNRR che comunque arrivano all'area metropolitana noi diventiamo un piccolo un piccolo cerchietto in un'area che chiaramente chiaramente poi ci sarà pure un discorso politico ci metteranno proprio all'angolo allora voi credete che questa sia la soluzione io non so allora se volete che comunque possiamo condividere questa cosa fate una cosa sana ritirate questa delibera andiamo dai cittadini facciamo un referendum torniamo in aula e se i cittadini dicono di sì noi siamo pronti a votare insieme ai cittadini io credo che questo sia il fondamento non si tratta di coraggio qui anzi il coraggio non ce l'avete perché non vi confrontate con i cittadini attraverso un referendum invece secondo me la cosa più saggia sarebbe quella di andare in piazza e dire facciamo il referendum quanti siamo? 50.000? se 38.000 40.000 dicono di sì noi veniamo a votare in aula con voi però i cittadini devono essere informati dei pro e dei contro di questa cosa perché è una cosa veramente importante il coraggio non ce lo avete voi perché non vi confrontate comunque con la gente che va votato è questo il principio più sano quindi detto questo io credo che sia importante proprio perché questa è una delibera che deve coinvolgere tutti i cittadini e quindi anche i consiglieri di opposizione di tornare in aula con delle basi più importanti per poter decidere e votarla tutti insieme per cui confrontiamoci con i cittadini non chiudiamoci a riccio non è questo lo spirito di una buona amministrazione democratica ci dobbiamo confrontare con i cittadini e io questo invito lo faccio anche ai comuni che ancora non hanno portato la delibera in consiglio di confrontarsi con i cittadini perché questa è l'unica arma che abbiamo per poter dire stiamo facendo una cosa fatta bene io credo che questo sia fondamentale anche perché tante cose dette in delibera e tante cose raccontate appunto da tutti i consiglieri sono prive di fondamenta quindi io dico poi sicuramente mi potrò anche sbagliare però credo che la cosa più importante sia quella di andare al referendum con i cittadini se è stato fatto un referendum quasi senza senso per lo spostamento aiutatemi del campo sportivo e poi una cosa più così importante non si va a fare un referendum qui cambiamo completamente lo stato dei cittadini ed è giusto che loro lo sappiano lo sappiano per tempo molta gente non lo sa io parlo con la gente non ci parlo sui social perché ho un'attività con la quale io mi relaziono tutti i giorni con i cittadini e molta gente non è informata di questa cosa quindi io credo che sia fondamentale fare un passaggio quindi sindaco io la prego di riflettere su questa cosa e di dire ok facciamo un passaggio e credo che il consigliere Peretta abbia detto cerchiamo di coinvolgere cerchiamo di fare perché è giusto che è così al di là del coraggio noi non ci manca il coraggio io credo che il vero coraggio sia quello di confrontarsi con tutti e di comunque avere da tutte le parti un'idea che sia un'idea chiara per poter andare a fare una cosa del genere grazie grazie consigliere Cialantini consigliere Mollica grazie presidente io ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti prima di me su una cosa sono convinta e questa è veramente una scelta di coraggio sia per chi vota a favore ma soprattutto per chi vota contrario e sono contenta che il consigliere Cialantini ha ricordato un evento l'ultimo referendum alla Dispoli il problema è che in quel caso non andrebbe ricordato consigliera ma non riproverò lei ovviamente perché il referendum andrebbe fatto e andrebbe rispettato perché da quel referendum sono calati i vari scempi di piani integrati di piazza grande e subito dopo questa delibera che meritava una seduta a sé meritava solo questo noi in realtà tra poco andremo a votare altre colate di cemento quindi in realtà i referendum vanno fatti anche su questa cosa io vado voglio essere più breve perché hanno detto tutti i miei colleghi di minoranza scusa non ci credo in questa provincia assolutamente già il nome porta d'Italia la vedo come una presa in giro ai cittadini usciamo fuori col capoluogo usciamo fuori sin da subito perché porta d'Italia la vedo come un volantino come un un fumo all'occhio perché qual è la cosa da nascondere qual è che che cosa c'è dietro perché non uscire direttamente che questa è una cosa seria è una cosa che va a inficiare il nostro territorio quindi non ci ho visto né l'apertura nel modo giusto non ci ho visto trasparenza trasparenza che meritano tutti i cittadini non solo di Tadispoli ma di tutti i comuni che vanno a votare e che hanno già votato questa delibera perché credo che sia una cosa importante ho partecipato in prima persona all'evento che è stato fatto il 5 marzo perché sono veramente convinta che le cose vanno lette studiate capite comprese sia le cose positive e le cose negative e una cosa mi è rimasta impressa quel giorno io ho sentito parlare ho visto slide solo di 25 punti a favore nessuno che avesse detto un punto negativo di questa provincia uno ce ne sarà no? credo poi il sindaco spero che intervenga alla fine e ce li dica lui uno ce ne sarà quindi fondamentalmente non credo a questa cosa non la vedo fattibile credo che non si farà mai una cosa del genere perché è follia uscire da città metropolitana di Roma anche perché vorrebbe dire andare ad aumentare quella macchina burocratica che oggi ci assale a tutti i cittadini noi dovremmo smaltirla la burocrazia quella dovremmo fare invece noi con questo sistema la stiamo andando ad aumentare e ti ripeto questo ovviamente come dice il sindaco noi andiamo a votare la proposta ma in realtà saranno le sedi competenti a decidere se si farà o meno questa provincia io non ci credo e per questo motivo il mio voto sarà contrario grazie anche per la dichiarazione di voto consigliere Fioravanti buonasera a tutti voglio dire solo due cose cioè sarò molto breve i cittadini ci hanno già votati e noi siamo i rappresentanti invece questa per noi è un'opportunità e qui fare un referendum avrebbero dei costi secondo me tutto qui grazie a tutti grazie consigliere Fioravanti consigliere Garau sì grazie presidente io ho fatto prima insomma il mio intervento era insomma un invito alla responsabilità a pensare che stiamo facendo appunto una cosa seria molto seria un evento storico come ha detto in commissione il sindaco un punto all'ordine del giorno importante quindi creare una provincia è un fatto importante crearlo però su una delibera permettetemi ancora una volta dove si citano due cose che dove la stessa risposta alla contrarietà a questa formazione è scritto in qualche modo nel deliberato o meglio ancora come si sta procedendo uno è quel famoso articolo 133 della Costituzione consiglieri comunali dove probabilmente o qualcuno l'ha dimenticato manca l'ho detto già prima manca un pezzo un famoso pezzo insomma che è la partecipazione popolare lo ribadisco ancora una volta l'hanno detto tutti i consiglieri che mi hanno preceduto la partecipazione è importante però non sto qui adesso ad argomentare nuovamente quello che è già stato detto a tutti i colleghi il libro dei sogni che avete fatto il convincimento che vi state facendo o volete fare ad altri perché è opportuno fare questa provincia lo dico nei numeri noi facciamo parte di un'area così importante che è 4 milioni e 300 mila abitanti faremo una provincia di 200 mila abitanti quindi diciamo due quartieri di Roma presso a poco qualcuno dice che noi siamo integrati e facciamo parte di un tessuto sociale e culturale lo ricordavano prima di quest'area insomma invito i consiglieri comunali probabilmente viaggiano poco girano poco o vedono poco quello che succede per esempio alla stazione alla mattina alla mattina la stazione basta andare alla stazione di Tadispoli insomma vediamo quanti vanno nel territorio a Roma a studiare a lavorare e a fare altre attività o meglio ancora la sera per quanto riguarda altre cose e quanto invece vanno a Civitavecchia o vanno a Fiumicino con tutto rispetto dei comuni insomma importanti bellissimi con servizi però insomma dire che noi siamo collegati culturalmente socialmente economicamente a Fiumicino a Civitavecchia insomma ci vuole un bel coraggio però se prima sono stato come dire e faccio ancora un invito alla responsabilità dei consiglieri comunali perché come ricordava la consigliera Fioravanti ci hanno votato e il nostro ruolo è importante quindi stare qui e votare assumerci la responsabilità di una scelta così importante insomma ci dovrebbe far riflettere e come dire pensare di fare tutto il necessario per non incorrere in errori riparranno le registrazioni video e audio di questo consiglio comunale che sarà storico sarà storico come quell'elenco lì che ricordava qualcuno sull'autonomia del nostro comune io mi auguro e lo dico seriamente senza essere ironico di essere smentito dai fatti se ciò avverrà mi auguro di no di sbagliarmi purtroppo sono convintissimo di non sbagliarmi questo sarà un danno grave che parete alla dispoli questo rimarrà agli atti io vi invito ancora una volta a riflettere su quello che si sta facendo perché questa scelta non va fatta maggioranza opposizione ma va fatta perché è importante una scelta così condivisa con un margine di una maggioranza molto molto ampia siccome questo non c'è le riflessioni i dubbi sono tutti legittimi io dico legittimamente quello che invece è questa cosa e voglio essere estremamente chiaro questo è semplicemente perché qualche capobastone politico sta creando questo carrozzone per appunto creare come ho detto ancora una volta un altro carrozzone politico che i cittadini dovranno sostenere economicamente perché dovremmo creare il presidente della provincia il vicepresidente i consiglieri provinciali magari qualche qualche società partecipata o qualcosa che dovrà gestire e creeremo un altro un altro baraccone per i nostri cittadini questa è la vera verità adesso logicamente lascio la parola al sindaco perché concluderà con un comizio sicuramente che ci dirà che faremo grandi cose e questa provincia sarà la salvezza del nostro territorio io mi auguro ancora di sbagliarmi e invito ancora i consiglieri comunali di levarsi la veste di maggioranza su questa votazione ma di essere responsabili è una cosa molto seria il consigliere ha la singola responsabilità ripeto ancora una volta questo rimarrà agli atti sarà registrato sarà verbalizzato e rimarrà come dire nessuno sarà come dire salvo da responsabilità pesanti che questa scelta cadrà sui nostri cittadini inconsapevoli e poco informati per volontà perché sia chiaro questo per volontà perché è stato detto chiaramente io credo che sarebbe stato opportuno fare ancora una volta ripeto una consultazione popolare informare i cittadini e spiegare meglio questa scelta grazie il nostro voto logicamente sarà contrario grazie consigliere Carau consigliere Marongio in virtù del fatto che sono già intervenuta e mi hanno preceduto diversi diciamo interventi di consiglieri di minoranza maggioranza credo che questo sia un argomento molto sentito che la responsabilità è in parte integrante della nostra presenza qua in aula a parlare per ore di questo argomento e proprio per questo motivo per dire se si parla di libro di sogno o di realtà io mi aspettavo delle risposte concrete che in questi mesi pochi mesi e poche settimane non sono arrivate perché volevamo mettere in evidenza quali erano i vantaggi a livello di entrate ad esempio in questo momento un cittadino mi ha scritto ma il mio biglietto per i trasporti sarà sempre lo stesso o supera dei costi cioè di differenza di costi ebbene con la città metropolitana della provincia di Roma avremo delle agerevolazioni differenti questo è un dato di fatto allora siccome la Repubblica cita litorale l'exit qualcuno della stampa locale una piccola Brexit del litorale ed è un momento epocale in questo momento epocale dobbiamo fare in modo che non prevalgano le ragioni elettorali di una classe dirigente che vuole occupare delle poltrone purtroppo anche questo è emerso io in queste settimane ho partecipato a diversi incontri a diversi incontri quindi sono venuta qua il 5 marzo con apertura totale di confronte quello che mi aspettavo è che la delibera non fosse così vuota senza nessun parere dei revisori mi aspettavo un coinvolgimento dei cittadini perché l'assenza totale di discussione questa è fondamentale come elemento che porta il gruppo PD la forza della comunità a esprimere il voto contrario grazie consigliere Morongiu consigliere Perretta sì presidente grazie per la parola io cercherò di essere breve ma un minimo di valutazione complessiva e unitamente alla mia dichiarazione di voto vale la pena secondo me farla io ho provato a mettermi in una posizione a critica e come dire ascoltare con responsabilità quello che poi la opposizione poteva indicare dire ed eventualmente come dire chiamare la maggioranza ad un confronto serio mi pare che questo sia profondamente mancato ho sentito tantissime indicazioni che però racchiudevano ampollose frasi condanne generiche e attività poco secondo me edificanti perché si è tornati continuamente su dinamiche poco costruttive e anche facendo riferimento a una assunta forma antidemocratica che questo consiglio assume rispetto invece ha una direzione che la costituzione indicherebbe quindi in realtà la normativa che oggi viene posta all'attenzione dell'aula da parte dell'opposizione è quella per la quale se la legge va nella direzione in cui loro diciamo si ritrovano è corretta altrimenti se invece la facciamo rispettare nel modo in cui la stessa indica diciamo concede in realtà noi siamo antidemocratici quindi se la legge presuppone per esempio come nel caso di Cervetti l'ho sentito che siamo stati tacciati di un'attività antidemocratica quindi se la legge presuppone che per continuità territoriale c'è una possibilità che un comune limitrofo magari proprio per assicurare questa continuità sia costretto a subire le conseguenze degli altri questo è un antidemocratico mentre in realtà se noi dovessimo in qualche modo come dire subire questo genere di attività perché un altro comune non vuole fare questo tipo di azione in realtà noi saremmo come dire ce la dovremmo sopportare giustamente il fatto che gli altri non hanno questa indicazione la democrazia è una cosa semplice insomma e cerco di spiegarla anche qui perché evidentemente non viene compresa la democrazia è numerica molti hanno indicato nella democrazia come dire la dittatura dei pochi perché in realtà probabilmente c'è sempre come dire una forma di dominio non giustificato la democrazia è un numero per cui la maggioranza assume una direzione e questa è quella che consente al nostro ordinamento di procedere mi pare una cosa normale non c'è molto da discutere per cui se la legge consente di attivare un percorso e questo è il percorso che viene attuato questo non è antidemocratico è corretto legittimo poi si può naturalmente poeticamente parlando assumere tutte le iniziative che si vogliono e dichiararlo come dire non corretto ma non illegittimo non antidemocratico perché mi pare che questo sia un affronto anche a chi tra l'altro qui ha messo un parere di conformità normativa ma no qui abbiamo come dire dei dipendenti che firmano questi atti che danno dei pareri insomma specifici e quindi mi sembrerebbe anche come dire scorretto perché si sta dando degli antidemocratici a chi in realtà invece la legge la stanno applicando e questo è già grave proprio come presupposto perché pochettivamente si può dire quello che si vuole in altro modo invece si dovrebbe stare attenti ho sentito qualche consigliere che diceva fate tutto questo per avere qualcosa in più noi facciamo questo per avere qualcosa di diverso perché quello che c'è non ci piace ed è una cosa sulla quale possiamo confrontarci liberamente non è che questa è una serie nella quale dobbiamo dire non c'è questo non c'è quest'altro ci sono 25 punti a favore nessuno negativo benissimo non ho sentito una critica costruttiva su questi 25 punti a favore che giustifica il fatto che magari per voi non sono corretti ho sentito parole negative esclusivamente in negativo come a dire che questa è l'unica cosa che noi possiamo oggi raccontare non c'è informazione questo aspettavo anche a voi darla in maniera diversa se questo effettivamente era il vostro intento invece il vostro intento era altro era quello di dare una dimostrazione completamente diversa di quello che oggi si sta facendo qui io ho apprezzato invece diciamo le parole di confronto che ha cercato in qualche modo di dare il consigliere Pagliotta su una scia che io condivido ha dato un tuo punto di vista al quale diciamo voglio rispondere è vero partono tanti soggetti da qua dalla Dispoi perché la Dispoi è cresciuta inspiegabilmente perché evidentemente in questo territorio le persone si trovano meglio che in un altro territorio perché? forse perché qui ci sono modalità culture impostazioni in cui il cittadino romano trovandosi a contatto con la stessa si è riconosciuto vogliamo dire che questo territorio è simile a Roma non lo è non lo è non lo è anche se poi abbiamo tantissimo da condividere ma lo è noi abbiamo un'attività diciamo come ricordava la stessa consigliera Asciutto agricola abbiamo un litorale la Brexit dei litorali non ci sarà un motivo perché probabilmente tutto questo assume importanza e lo si indica perché evidentemente questa attività non è come dire conosciuta non è sentita da quel settore non è qualcosa in più qualcosa in più evidentemente lo pensa chi ha sempre ragionato in questi modi chi ha sempre avuto diciamo a mente che se si fa una cosa si può creare uno spazio politico da come dire da arricchire da farcire ma questo è un pensiero che state facendo voi che non sta qui non sta nella maggioranza nella maggioranza sta facendo un altro tipo di politica e sta dicendo questa è una possibilità di creare un polo culturale sociale economico che sappia badare a se stesso e su questo noi siamo tutti d'accordo non è che se noi diventiamo provincia diciamo autonoma in realtà ci spostiamo da un punto di vista del chilometraggio da Roma no no noi siamo sempre qui siamo sempre vicini a Roma solo che rivendichiamo una capacità gestionale di alcuni settori nostra fatta con una tipologia che provenga dai territori è sbagliato questo ecco questo è il punto è sbagliato per la posizione che ci sia un'azione del territorio che sia in grado di badare a se stessa è un fatto di spesa pubblica ma noi un 4% eravamo e un 4% saremo le uscite saranno le stesse poi ci potrà essere una sorta di fusione ci saranno delle erogazioni ma questo è il punto in cui si può stabilire come spendere queste cose ma vogliamo spendere queste attività spendere questo tipo di iniziative attraverso rappresentanze che sono più vicine al territorio o in realtà dobbiamo raccontarci che il problema è che non c'è stata indicata correttamente una sorta di rendicontazione nella quale magari il professor Michetti ha detto una cosa piuttosto che un'altra no raccontiamoci quello che vogliamo dirci no siete contrari siete favorevoli ma non ci parlate a noi di responsabilità noi stiamo facendo un'azione di responsabilità abbiamo studiato anche noi parliamo con i cittadini non è essere solo voi quelli che parlano sulla cittadinanza anche noi abbiamo dei rapporti e i rapporti ci dicono che c'è l'esigenza di creare un polo territoriale che sa per rispondere a se stesso questo va bene all'opposizione perché per costruirla così come voi dite si poteva cambiare l'area metropolitana bene cambiamo la provincia quella nuova perché siamo tutti chiamati a dare la nostra partecipazione il punto è se questa cosa è giusta da un punto di vista futuristico noi siamo in grado di capire che gli uffici che le persone che il territorio ha delle peculiarità diverse dalla Roma capitale o no perché secondo me il ragionamento è solo questo noi siamo convinti che lo sia e per questo il voto di noi di Radispo sarà assolutamente favorevole grazie consigliere Perretta consigliere Paparella grazie presidente dunque siamo arrivati diciamo così al giro di boa al momento delle dichiarazioni di voto apprendiamo diciamo dai banchi della maggioranza che la spesa non è un problema la proliferazione diciamo della spesa pubblica di questa di questa iniziativa qui anche se poi le varie riforme per anni abbiamo cercato di limitare la spesa pubblica all'interno delle province provocata dalle province secondo alcuni della maggioranza questo non è un problema cioè non c'è un problema diciamo così carrozzone dell'effetto carrozzone quando qualcuno in modo un po' più informale come l'ha chiamato qualcuno in modo un po' più informale quindi non c'è un carrozzone non c'è il problema della spesa pubblica a meno che qualcuno non proponga di far scegliere i cittadini attraverso il referendum perché in quel caso la consigliera Fioravanti ci ha detto che invece è un problema cioè la spesa per il referendum potrebbe costituire un problema e potrebbe essere eccessiva no ci sono spese ha detto se si fanno il referendum è un costo ok quindi i costi in quel caso sono un problema invece i costi per moltiplicare gli uffici provinciali che da 15 anni si cerca invece di fare tutto l'inverso cioè andare ad accorpare a semplificare a ottimizzare consigliere Paparella gentilmente leghiato di fare la dichiarazione di voto altrimenti questo è il suo terzo intervento no io ho fatti due questo è il secondo e questo è il terzo ce l'abbiamo già gli altri no 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 io ho fatto un intervento procedurale all'inizio no ha fatto il terzo intervento prego comunque concluda non l'ho fatto non l'ho fatto dopodiché io ritengo che fermo l'estando che questo è il mio secondo intervento che è il secondo è il secondo perché ho fatto ho fatto un intervento procedurale e un intervento nel merito consigliere Paparella concludo a breve l'intervento grazie ho tre minuti per la dichiarazione di voto se non posso parlare se non posso parlare allora ho tre minuti penso che questa proposta più che protagonismo diffuso come viene chiamata viene chiamata protagonismo diffuso e invece alla fine alcuni comuni possono partecipare oppure no è uguale le tiriamo dentro lo stesso per la giacchetta altro che protagonismo ha la faccia del protagonismo diffuso si parla della centralità del cittadino e io non vedo questa centralità del cittadino ma vedo una centralità di qualche padroncino locale che ha voluto questa operazione che sappiamo già che non porterà a nulla soltanto per indebolire la città metropolitana che invece dovremmo rafforzare e nella quale dovremmo collaborare fra tutte le forze politiche e per diciamo così farsi bello oltretutto c'è qualcuno anche di questi attori locali di questi padroncini locali che ha fatto questa operazione senza nemmeno guadagnarci niente perché come abbiamo letto poc'anzi dal sindaco Paliotta e in alcuni passaggi si dice che addirittura Civitavecchia che ha 15.000 abitanti più di noi c'ha 10.000 posti di lavoro trovano invece sulla Dispoli manco uno zero quindi questo è quello che diciamo è l'amore per il nostro territorio che viene espresso con proposte di questo tipo oltretutto oggi per curiosità mi sono preso il Piao della città metropolitana 1.344 dipendenti compresi quelli a tempo determinato e diciamo quelli prestati da attrienti quindi se voi ritenete che 5.000 nuove unità lavorative come vengono messe qui siano una cosa fattibile sinceramente non è che bisogna essere positivi consigliere Asciutto bisogna essere folli quindi per tutti questi motivi noi riteniamo che un referendum sia indispensabile che questa proposta sia irricevibile che sia anche antidemocratica consigliere Perretta e crediamo pure diciamo che dovreste anche fare un po' di allineamento per capire se i costi sono un problema per la provincia o sono un problema soltanto quando si parla di democrazia e di espressione popolare il nostro voto della disposizione sarà al contrario grazie consigliere Paparella abbiamo concluso la fase di dichiarazione è rimasto il consigliere Fierli prego sì grazie presidente ho visto un po' accesso degli animi per quegli interventi democratici che insomma sono di quest'aula quindi se si parla di democrazia ecco che un terzo intervento sicuramente è dare spazio alla democrazia nonostante ci siano i due interventi ma detto questo ho apprezzato ho apprezzato invece il dibattito che in questo caso la minoranza ha citato anche perché è un punto di vista importante e non da escludere ma è chiaro si è parlato veramente di cose difficili terribili vorrei dire ma nel dettaglio ho sentito danno responsabile di un danno beh io forse direi che se pensiamo come danno potrei un po' proiettarli su un diversamente giovani cioè chi pensa al danno è diversamente giovani a questo progetto e parlo uno stato mentale non parlo da un punto di vista di età e chi invece vede l'opportunità da un punto di vista invece sempre mentale io penso che sono i giovani perché se il passato come l'area metropolitana da un lato non è tanto conosciuta ai cittadini forse si deve fare delle domande che c'è stata una parte di fallimento e quando si annovra il concetto di più o di diverso elogio il consigliere Perretta l'avvocato in cui non è un questione più perché con il diverso si può ottenere il più mi accingo a dare la la mia votazione insieme alla mia collega Pansini ho citato prima il 1965 qui davanti a noi è ben scritto in quest'aula cito anche il 2 giugno del 46 opportunità o minaccia monarchia o repubblica le risposte sono importanti su questi questi pensieri di futuro di scelte di un territorio che deve avere una voce in capitolo un territorio deve tornare a avere una voce in capitolo nelle altre istituzioni e penso che attraverso questa realtà o questa proposta non andiamo a decidere la vita noi proponiamo dove vivere dove decidere e cosa avere sul proprio territorio da protagonista la lista Grando Sindaco è a favore grazie consigliere Fierli consigliere Cervo Grazie Presidente velocemente farò la mia dichiarazione di voto ma qua mi aggancio un po' a quello che è stato il filo conduttore di questa ultima ora anzi alla fine controllo che l'orario sono 18.48 quindi come diceva qualche consigliere di opposizione forse meritava una sessione tutta a parte questo oggetto questo argomento comunque il filo conduttore di tutta questa partita di tutta questa situazione è la democrazia qualcuno la democrazia me la conta con i numeri ma io la conto con i numeri e per me la democrazia nella nostra dispori non può contare meno di 25 persone e poi c'è il coinvolgimento la voce in capitolo la voce in capitolo onestamente io la metterei la metterei a disposizione di tutto il territorio quello è il coinvolgimento quella è la voce in capitolo io devo avere la misura il senso di avere le risposte dai cittadini su tematiche che potrebbero cambiare il nostro territorio questo non è avvenuto e quindi per quanto ci riguarda il nostro voto sarà non favorevole grazie consigliere Cerbo abbiamo sorvito tutti gli interventi per l'edichirazione di voto chiude il sindaco e successivamente poniamo in votazione il punto grazie grazie presidente io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi che si sono susseguiti in questa discussione e devo dire insomma che come mi aspettavo la discussione è stata anche aspera per certi versi in alcuni interventi come giusto tra l'altro che fosse perché possiamo avere legittimamente idee diverse si sono alternate sostanzialmente due schieramenti chi pensa che questo progetto possa essere un trampolino di lancio per la nostra città e per le altre otto che ne fanno parte e chi pensa che invece questo sia il diciamo così il declino annunciato per il nostro territorio ho sentito parlare di carrozzoni di cose insomma negative ai massimi livelli mi verrebbe quasi da citare il nuovo testamento omnia munda mundis omnia immunda immundis quindi tutto è puro per i puri e tutto è impuro per gli impuri frase che troviamo anche nei promessi sposi quindi è facile trovare qualcosa di negativo laddove lo si vuole noi non facciamo questo non interventiamo questo passo con pensieri di questo genere noi lo facciamo con la consapevolezza di avere difficoltà oggi nel sistema gestionale della città metropolitana che ci vede assolutamente ininfluenti nelle scelte nell'assegnazione delle risorse e nella rappresentatività e puntiamo su un modello diverso un modello che appunto grazie a maggiore rappresentatività una maggiore capacità decisionale e a una maggiore capacità di tutelare il nostro territorio porterà sicuramente beneficio a tutti e noi i comuni che ne fanno parte per noi non è un problema di capoluogo per noi non è un problema di chi fa il presidente della provincia chi fa il consigliere provinciale io francamente è l'ultima cosa che ho pensato non ci ho pensato proprio cioè a me non interessa a me interessa che la Dispoli in particolare insieme a tutti gli altri comuni possa avere dignità quando si sede a un tavolo dove vengono decise le sorti di questo territorio e oggi quando noi ci sediamo al tavolo con Roma e con gli altri comuni dell'Interland contiamo zero la Dispoli conta zero virgola questo è il problema perché Roma fa 3 milioni di abitanti e noi ne facciamo 40 mila e vi dico che per certi versi è pure giusto e normale che sia così vogliamo continuare in questa direzione vogliamo continuare ad essere ininfluenti vogliamo continuare a subire le scelte vogliamo continuare ogni 6 mesi a fare una protesta perché decidono di fare la discarica ovviamente di Roma sempre fuori Roma ecco ma facessero al confine del raccordo anulare dentro i confini del raccordo anulare la prossima discarica perché qui c'è una provincia che ha autonomia e può decidere anche in questo senso e quindi magari evitiamo ogni volta di dover scendere in piazza per difendere Civitavecchia per difendere per difendere sì esattamente perché dopo la città metropolitana se lo fa all'interno del suo confine la provincia per smartire i propri rifiuti quindi noi siamo stanchi di essere ininfluenti di essere maltrattati di essere non considerati ma la città metropolitana di Roma da chi è amministrata? dal sindaco di Roma no? giusto? quindi i quartieri tutti i giorni si alza la mattina e va a Palazzo Valentini non ci è mai andato non ci va mai ma non è perché uno scansa fatiche ma non ci andava neanche Virginia Raggi non ci andrà neanche quello dopo che sarà magari di centrotesta o di un altro partito perché è impossibile per il sindaco di Roma stare a Palazzo Valentini e trascurare il Campidoglio ma come fa? quindi il sindaco di Roma eletto anche lì in maniera come dite voi molto democratica anzi per niente perché la leggono i consigliari comunali si disinteressa completamente per ovvie ragioni di quella istituzione alla Dispori non si è mai visto scriviamo lettere e città metropolitana neanche ci risponde abbiamo scritto lettere su numerose questioni non ultima quella del parcheggio di scambio dove c'era l'accampamento abusivo senza fissa dimora lo sapete ve ne abbiamo fornito copia non ci hanno manco mai risposto la città metropolitana è amministrata dal vice sindaco che fa le veci del sindaco per carità in maniera egregia io in un contesto non faccio questioni di merito dico solo che questa impostazione secondo noi non funziona e rispetto e lo dico seriamente la posizione di chi si pone invece una diciamo critica anche costruttiva se vogliamo nei confronti di questo progetto perché è giusto e legittimo che sia così tutti i cambiamenti possono generare in qualche modo incertezza tutti i cambiamenti possono spaventare oppure possono comunque far pensare che le cose andranno sempre peggio noi pensiamo invece che non sia così pensiamo che abbiamo una classe dirigente in questo territorio che è nella condizione che ha le capacità e le competenze per autodeterminarsi per governare questo territorio al meglio delle sue possibilità poi sarà diciamo così il tempo che sarà come sempre il giudice di tutto e ci dirà se abbiamo sbagliato e se non abbiamo sbagliato quindi ringrazio seriamente tutto il consiglio comunale per gli interventi che sono stati fatti è stata comunque una discussione interessante perché ha fornito spunti insomma più o meno condivisibili su questo argomento che è comunque un argomento che segnerà in qualche modo la storia del nostro comune grazie grazie sindaco procediamo con la votazione del punto numero uno all'ordine del giorno istituzione della provincia porta d'Italia chi è favorevole alzi la mano 14 favorevoli 7 contrari il punto è approvato sospendiamo la seduta di consiglio per 10 minuti e poi procediamo con il punto uno due all'ordine del giorno grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 di fronte a tutti. Grazie a tutti. a tutti.